E poi infine abbiamo approcci retroauricolari, microscopici, classici, che nel nostro caso sono molto spesso, quasi sempre, endoscopici assistiti, che sono la timpanoplastica canal wall down, quindi l'aperta, l'aperta obliterata. Nel caso di difetti del Tegmen con eventuali ernie meningoencefaliche, possiamo aggiungere una ricostruzione e la tecnica che utilizziamo è quella minicraneotomica. E infine per quelli statomi particolarmente estesi, ovviamente, rimane sempre la petrosectomia con varie estensioni, su totale o totale. Sostanzialmente per decidere a quale di questi interventi affidarsi come programma chirurgico, ci basiamo su due pilastri. Uno è il pilastro clinico, l'anamnesi, l'otendoscopia e l'audiometria e dall'altra parte la radiologia. Abbiamo bisogno di entrambe, sostanzialmente. Con la clinica da sola non riusciamo a fare un buon programma chirurgico, lo stesso vale per la radiologia. La radiologia è molto utile, ma molti fattori, considerando solo la radiologia, non sono sufficienti per fare una buona programmazione chirurgica. Partiamo con la clinica. L'anamnesi, diciamo, è importante. Ovviamente dobbiamo cercare di tirar fuori dall'anamnesi se si tratta di un colestatoma congenito versus un colestatoma acquisito. In alcuni casi può essere difficile questa discernere tra l'uno e l'altro. È importante capire se si tratta di un colestatoma primario o di un colestatoma recidivo. È sempre importante capire se si tratta di un colestatoma post-traumatico o iatrogeno, per esempio, da altri interventi otologici come una miringoplastica, per esempio. Le caratteristiche del paziente sono fondamentali, anche qui, per fare un buon programma chirurgico. Dobbiamo capire se abbiamo un paziente pediatrico, geriatrico, un paziente con problematiche dal punto di vista psichiatrico o con deficit cognitivi. È molto importante da valutare per, diciamo, il preoperatorio. Lo stesso vale per la condizione socio-economica, lo stile di vita del paziente e specifiche richieste del paziente. Questo perché i vari interventi che noi facciamo possono dare limitazioni funzionali che variano da intervento a intervento e quindi la nostra scelta ovviamente sarà basata anche sulle richieste specifiche del paziente. In più, bisogna già pensare durante la programmazione chirurgica a quello che sarà il follow-up. Cioè, se abbiamo di fronte un paziente che si sottoporrà a un follow-up e diciamo che tipo di follow-up in questo paziente potremmo effettuare. Per farvi un esempio, una tecnica obliterativa avrà bisogno di un follow-up che in alcuni casi potrebbe richiedere, diciamo, una risonanza magnetica. Se noi abbiamo di fronte un paziente che ha necessità di una sedazione per un'anestesia per sottoporsi alla risonanza magnetica, ovviamente abbiamo dei problemi nel follow-up di questo genere di paziente. E diciamo, considerazioni ovviamente possono essere fatte su tutti questi punti simili, possono essere fatti su tutti questi punti che vi ho messo sulla sinistra. I sintomi sostanzialmente ci danno un'indicazione, ma non ci danno la certezza del tipo di estensione, sintomi e segni, diciamo, del tipo di estensione del colestatoma. Per esempio, ipocusia, acufeni, soprattutto se siamo di fronte a un'ipocusia neurosensoriale o addirittura ad un'anacusia, possono essere segni, diciamo, di una fistola. Lo stesso vale per le vertigini, ovviamente segni che si possono indirizzare verso la presenza di una fistola. La presenza di un coinvolgimento del settimo nervo cranico, quindi va valutata la funzionalità del settimo nervo cranico. Storie di meningiti pregresse e sintomatologia, diciamo, cefalalgica, sospetta, diciamo, lateralizzata dal lato della patologia, possono essere segno che c'è una deiscenza del Tegmen, per esempio. È importante anche valutare se questo colestatoma è un colestatoma infetto nel quale si fa molta fatica, diciamo, a trattare con terapia medica l'infezione, e quindi non riusciamo sostanzialmente ad asciugarlo mai. Questo è un altro punto importante perché dobbiamo capire che terapia medica ha fatto il paziente prima di arrivare alla nostra attenzione. L'audiometria ci dà informazioni che però nella programmazione chirurgica non sono sempre molto affidabili, soprattutto per quanto riguarda l'atto affetto. In parole povere, possiamo prevedere dall'audiometria lo stato della catena ossiculare? In realtà lo possiamo prevedere solo in parte, cioè lo possiamo, se abbiamo un airborne gap inferiore ai 30 decibel, non possiamo osservare questo tipo di gap trasmissivo anche in pazienti che hanno una catena integra. Quindi questo non significa che abbiamo un'interruzione della catena. In alcuni pazienti possiamo avere un buon udito pur avendo la catena interrotta perché il colestatoma stesso funge da veicolo di trasmissione sonora. L'ipoacusia trasmissiva con chiusura di un gap, per esempio, per le frequenze dei 1000-2000 si può avere nei casi in cui si ha una meringostapiedopesia e quindi anche con catena interrotta. La cosa che forse ci dà un'indicazione maggiore è un airborne gap uguale o superiore ai 40 decibel che si associa molto spesso a un'interruzione di catena. Per quanto riguarda l'ipoacusia neurosensoriale, anche qui l'unica cosa che ci dà un sospetto forte di fistola, tenendo presente anche la storia di eventuali vertigini, è la presenza di un'anacusia, mentre l'ipoacusia neurosensoriale può essere legata alle varie infezioni intercorrenti che ci sono state, quindi un danno nell'orecchio interno legato alle sovrapposizioni infettive-infiammatorie del colestatoma. Il controlaterale invece è molto importante perché in particolare se dall'altra parte abbiamo un'anacusia, quindi stiamo operando l'unico orecchio udente, è fondamentale questo saperlo perché dovremmo cercare di ovviamente fare tutto il possibile per ricostruire la catena per far sentire questo paziente e evitare interventi che chiedano un secondo tempo funzionare. L'otendoscopia è molto importante ma anche in questo caso ci dà delle indicazioni. In alcuni casi può darci indicazioni poco utili, come soprattutto nei casi in cui abbiamo un orecchio infetto, se cernente o con polipi, dobbiamo cercare in questo caso, diciamo, se è possibile di asciugare l'orecchio con terapia topica, quindi lavaggi con la soluzione borica, antibiotico topico e chiedere una successiva rivalutazione per vedere appunto il quadro a orecchio non infetto. Se vediamo, diciamo, un orecchio asciutto invece ovviamente dobbiamo cercare subito di vedere qual è l'origine del colestatoma, se si tratta di un colestatoma che origina da una tasca di ritrazione oppure se si tratta di un colestatoma per esempio da migrazione epiteliale tramite una perforazione. Le due situazioni sono diverse perché anche la radiologia nel secondo caso, soprattutto quando c'è una migrazione epiteliale e una epidermizzazione, può sottostimare l'estensione, diciamo, dell'epidermizzazione, quindi è importante avere il dato clinico di questo punto. L'estensione endoscopica del colestatoma la possiamo ovviamente sospettare, non la possiamo avere con certezza per l'estensione, come vedremo dopo, ci vuole la radiologia. Gli altri punti da valutare sono la condizione della pars tensa che può essere normale, per esempio, per i colestatomi epitimpanici e la condizione della catena ossiculare se riusciamo durante l'endoscopia a valutare la catena. Per esempio, con gli stiatomi epitimpanici, come quelli che vedete sulla destra, abbiamo una pars tensa normale, quindi sappiamo già che dovremmo concentrare la nostra chirurgia nella porzione superiore, nella porzione epitimpanica. L'estensione verso l'antro, la mastoide, ovviamente non la possiamo valutare semplicemente dall'endoscopia. In questo caso, questo è un filmato in cui vedete anche qui una normale ventilazione della componente mesotimpanica, quindi una funzionalità tubarica normale, va al salvo e positivo, e con l'endoscopia possiamo esplorare molto bene questa tasca di attrazione, quindi vediamo che effettivamente poi la tasca si rende anche medialmente rispetto alla catena ossiculare, e quindi questo già ci dà indicazione dal vista della programmazione chirurgica. In questo caso vedete per esempio un colestatoma meso epitimpanico con verosimilmente una migrazione epiteliale attraverso una perforazione e quindi sappiamo già che molto probabilmente avremo un'estensione del colestatoma. Vedete le frecce, per trasparenza si vede il limite del bianco della migrazione del colestatoma nel quadrante antero superiore della membrana e sappiamo già che il colestatoma si estende verso il protimpano e molto probabilmente si estende verso l'ipotimpano, sicuramente si estenderà verso il retrotimpano e molto probabilmente anche verso l'epitimpano, quindi in questo caso abbiamo un colestatoma meso epitimpanico e semplicemente solo dal... Anche qui quando abbiamo un'immagine di questo genere possiamo capire molto bene l'estensione senza bisogno di una radiologia ulteriore anche se ovviamente è da fare in tutti i casi per averne la certezza, però vedete che effettivamente l'estensione del colestatoma corrisponde a quello che vedevamo dall'otendoscopia. La radiologia è fondamentale per vedere l'estensione. L'estensione del colestatoma è classificata da diversi sistemi stadiativi, di quelli che noi usiamo più frequentemente è quello dell'EAONO, però sono sistemi stadiativi questi che non sono stati creati per la chirurgia endoscopica, quindi dal punto di vista del guidare la nostra chirurgia in realtà non sono sistemi che possiamo applicare per la nostra scelta decisionale. È però molto utile classificare l'estensione del colestatoma e i danni che il colestatoma ha causato per poi poter confrontare i risultati dei nostri vari interventi, anche con tipi di chirurgie, scuole chirurgiche diverse. L'ATTAC, la prima cosa da dare è il grado di pneumatizzazione. La pneumatizzazione della mastoccia è sostanzialmente utile, sia quando diciamo del nostro approccio orientato dal punto di vista endoscopico sia negli approcci tradizionali, perché come vedremo alcuni interventi chirurgici devono tenere comunque molto conto della pneumatizzazione. Può andare da una pneumatizzazione assente, come vedete sulla sinistra, a una pneumatizzazione invece molto importante, come quella che vedete sulla destra. Dal punto di vista eventualmente di un approccio combinato, quindi nel approccio transmastoideo, è importante anche sapere il rapporto che la pneumatizzazione ha rispetto al senosigmoide. È importante sapere la distanza che c'è tra parete posteriore del condotto e senosigmoide per avere un indice di quella che è l'ampiezza della nostra mastoide, quindi dello spazio che abbiamo poi attraverso il corridoio mastoideo. È importante valutare la pneumatizzazione della radice del processo trigomatico, perché soprattutto per colestiatomi molto estesi, in rocche pneumatizzate, si può avere un'estensione in questa sede, che è una sede non facilmente dominabile, che può essere sede di residiva, quindi da valutare subito, sede di residuo, scusate, da valutare subito, e poi valutare, diciamo, le caratteristiche del tegmen mastoideo, quindi della dura, se è una dura bassa, se è una dura alta, se ha un andamento più piatto, oppure come in questo caso, diciamo, un pochino più puro verso il basso. Questo è importante quando andremo a fare la nostra mastoidecchemia. Dal punto di vista, vi dicevo invece, comunque del ragionamento, della pianificazione chirurgica, anche dal punto di vista endoscopico, è fondamentale sapere se abbiamo una pneumatizzazione della mastoide o meno quando abbiamo il colestiatoma. Nel caso sulla sinistra, potete vedere che la mastoide praticamente non è pneumatizzata, abbiamo solo un altro, un antro, il colestiatoma si estende solo all'antro. Un caso del genere, tenendo presente ovviamente tutti gli altri fattori che devono essere presi in considerazione, potrebbe essere gestito con una timpanoplastica aperta endoscopica, quindi potremmo fare un accesso transcanalare. Sulla destra, invece, ovviamente, sappiamo già che questo non lo possiamo fare, abbiamo un colestiatoma che si estende in maniera importante a livello della mastoide, una mastoide, diciamo, un pochino più prematizzata, e in questo caso, diciamo, un accesso transcanalare endoscopico pur non è pianificabile, oltre ad avere in questo caso anche una distrazione della parete posteriore del condotto, quindi già di per sé un'indicazione chirurgica. La pneumatizzazione sovralabirintica, l'edizione del colestiatoma al di sopra del labirinto è un altro punto, diciamo, che ci dice che avremo bisogno di un accesso retroauricolare per, diciamo, controllare quella regione. La pneumatizzazione, invece, infracocleare può essere controllata con gli approcci endoscopici allargati verso l'apice della rocca e sulla destra vedete che questa pneumatizzazione è molto varia, quindi dovete vedere, ci sono, diciamo, noi li abbiamo classificati in tre tipi che possono andare dall'assenza, diciamo, di pneumatizzazione fino a una pneumatizzazione molto importante che arriva all'apice della rocca. Saperlo prima e ovviamente osservare il commogimento di queste regioni da parte del colestiatoma è fondamentale sempre per pianificare il nostro intervento. La fistola, diciamo, i danni che il colestiatoma ha causato sull'orecchio interno vanno ovviamente conosciuti prima. Dobbiamo vedere, sempre andare a ricercare eventuale presenza di fistola. Quella più frequente è quella del canale semicircolare laterale che dobbiamo valutare sia nei tagli in assiali che in coronale. Più rari, invece, sono altri canali come per esempio sulla sinistra vedete il canale semicircolare superiore. sapere il grado, diciamo, di fistola secondo la classificazione di Dornorfer sulla base dell'ATAC è molto difficile. Possiamo ovviamente sospettare che una minima erosione ossea senza, diciamo, un'immagine come quella che vedete in cui è mozzato è più probabilmente una blue line, quindi una fistola di tipo 1. Se abbiamo invece un paziente anacusico con un canale mozzato più probabilmente ci troveremo verso una fistola di tipo 3, quindi con un'estensione probabilmente anche verso il labirinto. Il nervo facciale, ovviamente, dobbiamo valutarlo. Per quanto riguarda la programmazione chirurgica, la presenza di una deiscenza del facciale nel secondo tratto può essere gestita benissimo per via transmetale endoscopica. La presenza di un colestatoma che si estende ovviamente a livello mastoideo con erosione del terzo tratto è già un'indicazione ovviamente a una chirurgia combinata, quindi, diciamo, deve prevedere un tempo mastoideo. La presenza di deiscenze del Tegmen sono importanti da valutare perché anche queste, diciamo, possono richiedere una chirurgia, diciamo, un accesso trasmastoideo. Sicuramente una deiscenza del Tegmen mastoideo ampia, come quella che vedete sulla sinistra, richiederà un accesso retroauricolare, una deiscenza come quella che vedete in basso a destra, dell'epitimpano anteriore, con una deiscenza molto limitata e senza, diciamo, erniazione della dura, può essere anche gestita per via endoscopica. La parete posteriore del condotto, da valutare, serosa dal colestiatoma, questa è già di per sé l'indicazione a una timpanoplastica, a una timpanoplastica aperta, in questo caso il colestiatoma è molto voluminoso, quindi sappiamo già che dobbiamo fare un accesso retroauricolare. E poi le estensioni a livello epitimpanico e mesotimpanico nei vari, diciamo, spazi nel retrotimpano, ipotimpano e protimpano, è importante valutarlo nel preoperatorio, ma possono tutte essere gestite, per esempio, per via endoscopica. Un colestiatoma come questo, limitato all'epitimpano laterale, è uno degli esempi, diciamo, di estatoma che può essere trattato tranquillamente per via transcanale endoscopica, uno, diciamo, dei colestiatomi più semplici, da questo punto di vista. Se abbiamo un coinvolgimento del timpano anteriore, come sulla sinistra, o dell'epitimpano, diciamo, posteriore nel suo versante mediale alla catena osseculare, sappiamo già che il nostro intervento, che può essere effettuato sempre per via endoscopica, dovrà prevedere una rimozione, diciamo, di parte della catena osseculare, quindi dovrà prevedere poi una ricostruzione se la catena è comunque integra. Nell'estensione al protimpano, nell'estensione al protimpano, dobbiamo valutare il rapporto che il colestiatoma ha con la carotida interna, quindi valutare che ci sia una carotida interna ricoperta da osso, da sapere, diciamo, da sapere prima, e in alcuni casi possiamo avere una carotida interna invece decente nella cassa, in questo caso ovviamente dovremo prestare molta attenzione durante la dissezione del colestiatoma da questa regione, anche questo è importante, diciamo, da valutare nel preoperatorio. Lo stesso vale per il bulbo della jugulare quando andiamo a valutare la regione ipotimpanica, abbiamo casi in cui il bulbo della jugulare può essere decente o come vedete in queste immagini, in queste immagini TAC, addirittura c'è un diverticolo del bulbo della jugulare, e in questo caso ovviamente possiamo trovarsi di fronte a difficoltà se non abbiamo previsto, diciamo, questa cosa preoperatoriamente. Il retrotimpano è da valutare, diciamo, molto bene, è una regione che per via endoscopica può essere ben controllata, quindi è uno dei vantaggi sostanzialmente della tecnica endoscopica, ma va comunque, diciamo, valutata molto bene per programmare, diciamo, il nostro intervento chirurgico. Vedete in TAC il corrispettivo, diciamo, di quelle che sono le regioni del retrotimpano, in arancione vedete il processo piramidale con dietro il nervo facciale, in rosso, diciamo, è la regione della finestra ovale e in verde il recesso facciale. In coronale, vedete, diciamo, le stesse strutture, il secondo tratto del facciale con la linea arancione sempre in rosso, diciamo, la regione della staffa. Scendendo in basso, quanto riguarda il retrotimpano, ci sono altri importanti da conoscere che sono il sinus timpani, in questo caso, per esempio, completamente libero, quindi non abbiamo bisogno di andarlo a esplorare durante l'intervento chirurgico. Il nervo facciale, terza porzione, e il seno laterale, in questo caso, è pochissimo espresso, è libero da malattia, quindi in questo caso non dovremmo andare a usare, in questo caso, TAC, la regione durante l'intervento. Il sinus timpani è molto esplorabile, comunque, in endoscopia quando è necessario. Vedete, in questo caso, questa è un'esplorazione intraoperatoria in assenza di colestiatoma, si può vedere molto bene il sinus timpani con un'ottica angolata. In alcuni casi, però, l'anatomia non ci consente di controllare il fondo del sinus timpani, come per esempio, quando abbiamo un sinus timpani, come vedete, sulla destra, un sinus timpani tipo C, che si estende non solo posteriormente al nervo facciale, ma anche, diciamo, più lateralmente. In questo caso, il controllo del fondo del sinus timpani non è possibile, non può essere effettuato per via endoscopica e qui abbiamo un caso in cui il colestiatoma ha invaso un sinus timpani di tipo C e quindi si estende, diciamo, posteriormente e lateralmente rispetto al terzo tratto del nervo facciale. Il corrispettivo endoscopico di questa situazione la vedete in questo filmatino in cui vedete il sinus timpani coinvolto dalla patologia, dal colestiatoma, la rimozione per via endoscopica viene tentata, della componente più vicina alla cassa. Nonostante, diciamo, il colestiatoma venga rimosso in gran parte, diciamo, da sinus timpani, però rimangono dei residui che non è possibile, diciamo, controllare visivamente con l'endoscopia anche con l'ottica come vedete in questo caso. Quindi, questo, diciamo, per farvi vedere che in realtà nonostante gran parte del colestiatoma possa essere rimosso anche per via endoscopica, in realtà questi casi richiedono anche un accesso retroauricolare, un accesso retroauricolare che sarà in questo caso retrofacciale per accedere al fondo, diciamo, di questo sinus timpani particolarmente pneumatizzato e profondo che si completa poi successivamente la rimozione del piccolo residuo di epidermide con sotto, in questo caso come vedete c'è un'assistenza, abbiamo fatto una via trasmastoidea con un'assistenza endoscopica quindi sempre per via trasmastoidea si va a rimuovere, si va a controllare bene il fondo del del sinus timpani e si rimuove diciamo il residuo bene, per quanto riguarda poi invece la risonanza la risonanza non va chiesta in tutti i pazienti e l'altro esame che è molto importante ma va richiesto in casi particolari i casi sono sostanzialmente l'erosione del tagman quindi casi in cui all'attack valutiamo che è presente un'erosione del tagman i casi di recidiva o persistenza in questi casi è molto utile negli ultimi nell'ultima decina di anni si parla molto diciamo di risonanza in diffusione perché diciamo consente di distinguere il diciamo il tessuto il colesiatoma dal tessuto infiammatorio e quindi molto utile per evidenziare diciamo la recidiva o la o la persistenza diciamo di malattia l'estensione all'apice della rocca è un'altra indicazione ovviamente la risonanza magnetica perché va valutato molto bene l'effettiva estensione del colesiatoma e distinguere diciamo il colesiatoma dal tessuto infiammatorio o accumulo diciamo di secrezioni e infine ovviamente un colesiatoma con estensione intracranica è un'altra un'altra cosa che richiede ovviamente un approfondimento con una risonanza magnetica la decenza del tegman è fondamentale perché noi dobbiamo capire se questa decenza in questa decenza noi abbiamo semplicemente un'esposizione della dura senza un meningocele o un meningoencefalocele oppure invece ci troviamo come in questo caso un meningoencefalocele o addirittura come questa immagine sulla destra con cistenografia abbiamo diciamo una una licorrea questo ovviamente è fondamentale nella programmazione preoperatoria nella recidiva la risonanza in diffusione e come vi facevo vedere prima la diffusione vanno prese diciamo sequenze tipo turbo spineco o multishot perché quelle single shot in diffusione sono diciamo possono avere molti artefatti quindi non sono affidabili e queste consentono diciamo di evidenziare la presenza di un colestatoma se noi mettiamo insieme la T2 la T1 con il contrasto in cui ovviamente il colestatoma al massimo può prendere il contrasto perifericamente e la diffusione abbiamo diciamo una abbiamo la certezza diciamo sostanzialmente della della presenza di una di una persistenza o residiva del colestatoma i falsi negativi sostanzialmente le lesioni di piccole dimensioni quindi sotto i 5 mm la tecnica non è in grado di di valutare se è presente o no il colestatoma i movimenti del paziente durante la metodica soprattutto nelle metodiche single shot ci danno degli artefatti e quindi possono risultare possono darci dei falsi negativi quindi non abbiamo una restrizione della diffusione e poi ovviamente un altro falso negativo è quando abbiamo l'epidermizzazione magari abbiamo un'epidermizzazione molto ampia dell'epitimpano della mastoide con una risonanza del tutto negativa perché è ovviamente molto sottile il tessuto che deve essere valutato in questo caso per esempio invece vedete che ci consente di distinguere la risonanza una in diffusione un tessuto che non è colestatoma che è sostanzialmente tessuto cicatriziale in cui c'è un enhancement contrastrografico che nel colestatoma non c'è e non c'è una restrizione in DVI l'estensione all'apice della rocca come vi dicevo prima anche queste sono importanti valutare e distinguere tra tessuto tra colestatoma e tessuto infiammatorio e ovviamente valutare il coinvolgimento durale eventualmente l'estensione intracranica del colestatoma quando abbiamo colestatome molto voluminosi quindi concludendo diciamo dal punto di vista della nostra programmazione chirurgica che cosa dobbiamo tutti questi esami e che cosa ci servono ci servono per nel nostro diciamo dal nostro punto di vista di management chirurgico sostanzialmente noi possiamo programmare una timpanoplastica limitata transcanalare endoscopica se abbiamo un colestatoma epitimpanico o mesoepitimpanico che può avere anche una estensione antrale diciamo molto modesta soprattutto quando la matrice in quella sede è scata questo ovviamente lo vediamo intraoperatoriamente un colestatoma epitimpanico antrale che si estende diciamo ad un antro una mastorde burna in cui è presente solo un antro può essere trattato sempre per via endoscopica con tecnica aperta con tecnica aperta endoscopica appunto e eventualmente l'estensione infracocleare o scusate qua c'è scritto sovralabirintico ma è sovrazenicolata può essere trattata con sempre per via transcanalare endoscopica allargata in questo caso gli approcci combinati invece li riserviamo per casi in cui l'estensione ovviamente ci sia un'estensione mastoidea del colestatoma soprattutto quando la mastoide è pneumatizzata quindi da moderatamente pneumatizzata colestatoma con estensione antrale a matrizia infiltrativa e questo lo vediamo purtroppo intraoperatoriamente quindi alcune delle scelte ovviamente devono sono riservate al tempo chirurgico di per sé non lo possiamo programmare preoperatoriamente però diciamo possiamo fare un programma di massima da questo punto di vista ovviamente può essere trattato con una timpanoplastica combinata e quando abbiamo fistola dei scienze della terza porzione del facciale o dei scienze del tagman ampia ovviamente dobbiamo prendere in considerazione una tecnica combinata in più ovviamente i fattori del paziente legati al paziente sono molto importanti se il paziente è disposto a un follow up ed è affidabile a seconda dello stile di vita del paziente e questo tipo di tecniche prevalentemente le utilizziamo per esempio in pazienti pediatrici dove preferiamo fare una tecnica combinata piuttosto che una tecnica aperta almeno diciamo durante il primo intervento e poi approccio e poi ovviamente le tecniche retroauricolari con eventualmente un'assistenza endoscopica quindi la canal wall down la canal wall down obliterativa e eventuale ricostruzione con mini craniotomia sono destinati a tutti gli altri casi quindi colestiatomi ricorrenti epitimpano mastoidei anche quando hanno una mastoide contratta quando abbiamo una mastoide più ampia preferiamo ovviamente obliterarla ridurre la dimensione della mastoide ridurre la dimensione della cavità quando abbiamo diciamo per esempio fistoli se la nostra la possibilità di rimozione della matrice è sicura è completa è possibile fare un'obliterazione nei casi in cui non sia possibile rimuovere tutta la matrice dalla fistola o quando non siamo sicuri preferiamo diciamo una canal wall down senza obliterare eventualmente l'obliterazione può essere effettuata in un secondo momento ovviamente i difetti richiedono una ricostruzione mini craniotomica infine con gli stiatomi diciamo recidivi molto estesi che abbiano già magari un'anacusia in questi casi riserviamo diciamo la petrosectomia quindi con questo vi ho fatto una panoramica diciamo di quella che è la nostra programmazione chirurgica spero di non aver detto troppe cose che magari poi verranno affrontate anche dopo vi ringrazio insomma allora ringraziamo intanto il dottor Fernandez perché secondo me ci ha fatto un overview abbastanza dettagliata e importante per quanto riguarda quello che è la gestione preoperatoria dei colesterotomi allora io chiederei un secondo ai panelist se hanno qualche cosa da commentare noi non abbiamo ricevuto domande per il dottor Fernandez dai partecipanti però se i panelisti vogliono dire qualcosa insomma fate pure le domande che volete ciao sono Mimmo Di Maria mi sentite? sì? allora rispondo scusate ce n'è una di Maria che chiede eseguite sempre tac e risonanza come nella patologia nasale per i colestiatomi come sostanzialmente no nei pericoli stiatomi facciamo sempre la tac quindi l'indagine di prima scelta è sempre la tac la risonanza come dicevo la riserviamo solo a casi particolari cioè quella in cui c'è una descenza del tagman quella in cui c'è un'estensione verso l'apice della rocca del colestiatoma o sospetta estensione verso l'apice della rocca quelle in cui abbiamo una sospetta estensione intracranica e per quanto riguarda le recidive dipende dall'intervento che hanno fatto precedentemente la risonanza per esempio nelle tecniche obliterative è una metodica che è importante perché è molto difficile distinguere dopo un'obliterazione il colestiatoma dal tessuto cicatrizzale utilizzato per l'obliterazione della cavità e quindi soprattutto quando il paziente è a rischio di recidiva effettuare una risonanza a distanza di tempo anche qui la tempistica è importante per la recidiva andrebbe fatta diciamo la risonanza circa un anno un anno e mezzo almeno dall'intervento chirurgico per avere appunto una recidiva abbastanza grande da essere rilevata con con la metodica di Buai insomma Allora ne approfitto solo un attimo visto che ho parlato dei pannellisti per dire chi sono perché non ve li ho presentati e sono coloro anche che discuteranno i casi clinici successivamente abbiamo il dottor Salvatore Mazzone che lavora all'ospedale Cardarelli di Napoli il dottor Giuseppe Panetti che dirige Unità di Otorino dell'ospedale Paolo il dottor Daniele Borsetto che sta lavorando a Londra in questo momento al Dyson St. Thomas Hospital il dottor Soloperto che lavora con il professor Marchioni che tra l'altro mi approfitto per ringraziare di essere di partecipare anche lui a questo a questo webinar e che lavora appunto con il professor Marchioni a Verona moderatori insieme a me al dottor Villari che lavora con me a Modena scusa ok sì finisco una cosa poi faccio una precisazione quindi oltre al dottor Villari ci sarà il dottor Di Maria che lavora invece all'ospedale di Benevento e che sarà moderatore con noi della prossima sessione abbiamo visto che state facendo domande nel Q&A per quanto riguarda il follow up vi chiedo solo di avere pazienza perché il dottor Fermi affronterà questa relazione più tardi e quindi magari riserveremo queste domande a lui per quanto riguarda l'aspetto del follow up quindi vi chiedo se avete altre domande da parte dei pannellisti se no passeremo con il dottor Fermi a fare due piccoli sondaggi a cui potete rispondere riguardo questa relazione mi sentite? Davide? Sì avrei solo una domanda se nei pazienti che effettuano un intervento e una ricostruzione in cui ottenete degli esiti funzionali molto buoni quindi da un punto di vista ideologico il paziente è pressoché normacusico se preferite fare una risonanza come diciamo controllo a distanza o se comunque sottoponete a un second look o entrambe le modalità insomma Allora Davide provo a rispondere io alla tua domanda e tratterò questo argomento nell'ultima delle relazioni della parte sulle relazioni ad ogni modo non c'è un protocollo definito per quanto riguarda la risonanza individualmente e viene definita caso per caso l'indicazione a fare un second look piuttosto che un esame radiologico che sia attacco a risonanza magnetica dopo cercherò di approfondire un pochino meglio questa risposta così magari se ci sono degli altri dubbi poi ne parliamo anche con Dottor Villari Bonali approfittiamo magari anche dalla presenza del professor Pioni per avere pronto posso intervenire volevo rispondere a Dottor Soloperto per quanto riguarda la mia esperienza quando ho la catena integra e le seguo preferisco fare un second look se in casi particolari la estensione del colestatoma è borderline quando diciamo si riesce a rimuovere senza diciamo interrompere la catena delle volte sono delle situazioni al limite per cui anziché aspettare magari una diciamo recidiva quindi una eventuale erosione che poi comprometterebbe il risultato quando funziona preferisco anticipare ecco il secondo anche prima dei 12 mesi quando qualche dubbio in una zona è a rischio appunto proprio per i limiti della risonanza diffusione perché diciamo dà la possibilità di verificare una recidiva solo per lesioni di almeno 5 mm aspetta un attimo allora adesso prima di passare alla prossima relazione anche per prendere un po' confidenza noi stessi con la piattaforma visto che è la prima volta che la utilizziamo proverò a fare il primo dei sondaggi di cui vi parlavo ad inizio webinar sostanzialmente allora ok prendetevi il tempo necessario per rispondere la domanda è una domanda semplice cercare di capire qual è la vostra esperienza o diciamo vissuta in prima persona oppure in seconda persona per tutti quelli che sono come me ancora in specialità sulle tecniche che vengono utilizzate nella vostra realtà per gestire la patologia colestetomatosa ci prendiamo un po' di tempo per far rispondere la maggior parte dei partecipanti possono rispondere anche i panelist credo almeno ok aspettiamo ancora gli ultimi voti ok direi che direi che già questo è un dato molto interessante perché questo sondaggio per quanto sia stato compilato soltanto da 30 persone ci mostra che c'è una perfetta distribuzione delle delle tre tecniche che verranno poi principalmente esposte durante questa fase qua è chiaro che è impossibile generalizzare nel senso che ogni caso va definito e valutato come caso a sé stante però sicuramente un aspetto che è da prendere in considerazione è anche l'esperienza degli otto chirurghi e del centro di cui si fa parte nel preferire una o l'altra tecnica per affrontare la patologia ok allora possiamo andare avanti con le Matteo vuoi far vedere i risultati del sondaggio o non si fa? ah scusami aspetta un attimo bene figo grazie grazie mille figure ok niente quindi così potete vedere che è vero che non hanno messo tutto non hanno messo tutti Canal Walldown o Endoscopica ok detto questo lascio la parola al dottor Villari che farà la sua presentazione allora salve a tutti io c'è un piccolo cambiamento di programma perché abbiamo per esigenze personali di tempistiche in quanto mi devo allontanare una mezz'ora e quindi faccio io prima la mia presentazione prima di Marco userò il suo computer in quanto il mio non va il microfono quindi praticamente mi vedete scritto come Marco Bonali ma sono Domenico Villari anche perché poi mi conoscete e penso che la differenza sia decisamente abissale allora io devo parlarvi di timpanoplastia Canal Walldown quindi scelta chirurgica e l'indicazione all'obliterazione quindi ok ok quindi cominciamo con le indicazioni quando fa una tecnica Canal Walldown tenete presente che questa è una presentazione tarata sulla esperienza della nostra scuola quindi la nostra scuola avendo una grossa attività sulla endoscopia ha delle indicazioni per la Canal Walldown che probabilmente non coincidono alle scuole di microscopia invece di chirurgia otologica microscopica classica quindi è la proposta diciamo che viene dalla mia esperienza e l'esperienza della nostra scuola quindi noi preferiamo fare una Canal Walldown quando abbiamo colestiatomoni tipo anomastoidei molto estesi e comunque andiamo sempre poi a valutare il molto esteso anche in funzione del paziente che ci dovevano di fronte tendenzialmente preferiamo sempre nei pazienti pediatrici o comunque giovani tendenzialmente tentare una conservazione della parete e fare una tecnica chiusa che facciamo come al solito come ha detto già Ignazio in combinata con la tecnica endoscopica e quindi colestiatomoni tipo anomastoidei molto estesi aggiungerei in pazienti dai anziani o comunque dai 60 anni in su che nessuno si offenda per i 60 anni in su anziani o dai 60 anni in su disventilazione persistente nel senso intesa come recidiva nel senso che se abbiamo un paziente che è stato sottoposto soprattutto se già da noi quindi già con un'esperienza personale di fallimento di tecnica chiusa che sia endoscopica che sia combinata proprio perché nonostante tutti i criteri di riventilazione anche intratimpanica dell'istmo del tensorfold si continua ad avere nel tempo anche a distanza di anni è capitato delle disventilazioni delle riretrazioni quindi un polistiatoma recidiva su base disventilativa allora probabilmente è il caso di non proseguire con ulteriori interventi analoghi che verosimilmente poter potrebbero ma shiftare per una forma canal wall down chiaramente quando vi è un'erosione della parete posteriore del condotto ecco questo per esperienza abbiamo visto che le tecniche di ricostruzione della parete posteriore del condotto sono abbastanza scadenti come risultati difficilmente si riesce a ricostruire in maniera adeguata all'erosione della parete posteriore molto spesso quindi si ha un'infiltrazione della pelle anche attraverso la preparazione del condotto e quindi in quei casi anche perché ciò succede con le steatomi molto estesi quindi ci ricollegiamo nel primo punto preferiamo eseguire una tecnica canal wall down e poi chiaramente nei casi complicati in particolar modo in fisto le gabirintiche del canale semicircolare laterale molto spesso o in case di fistole durale quali sono i vantaggi della tecnica aperta chiaramente un'ampia visualizzazione delle casse della mastoide e di tutte le sottosedi di questi due distretti anatomici come vedete anche in dati molto complicati e la possibilità di lavorare con manualità dobbiamo precisare che il discorso dell'ampia visualizzazione delle sottosedi è un concetto più generico che riportato alla nostra personale esperienza in quanto comunque ribadiamo concetti già detti ma comunque è importante in funzione dell'argomento che stiamo trattando la visualizzazione di ciechi come epitimpano retrotimpano vedete io non vedo la mia faccetta vero? ok il senofacciale il senotimpanico l'epitimpano anteriore sono tutti spazi che vengono con l'endoscopio anche e soprattutto angolato ampiamente valutati con nella tecnica endoscopica in esclusiva o combinata diciamo che nelle nostre mani che è con esperienza ormai che arriva a dieci anni di questa tecnica non abbiamo bisogno dell'abbattamento della parete posteriore per ottenere una maggiore situazione e di conseguenza rimane il concetto della bimanualità ma anche lì diciamo che con il nuovo strumentario che si va sempre più a perfezionare con gli strumenti che sono che permettono di eseguire dissezioni curettage con l'aspirazione come gli strumenti disegnati dal dottor Panetti anche questa tipologia di vantaggio ipotetico della timpanoplastica aperta o la canal walldown nelle nostre mani così importante nella scelta viceversa come vi dicevo diverso è un caso o delle situazioni come queste pazienti già operati operati a nostro modo di vedere in maniera efficace che si presentano a controllo ripeto non immediato ma anche a distanze 3-4 anni con delle ampissime retrazioni vedete una più è un caso con ampia attico attico mastonea un coma ricidito in questo caso c'è una non c'è il colestiatoma ma c'è un'ampissima retrazione questi probabilmente sono dei casi che si avvantaggiano dall'utilizzo della tecnica aperta in quanto si va a ovviare la retrazione soprattutto quando questa è a carico dei distretti epitinfano mastole altro concetto è quello dei colestiatomi complicati nei casi chiaramente dove vi è una pistola del canale semicirpino laterale una sospetta di pistola durale sicuramente l'approccio retroauricolare e la mastodequimia e anche la gestione della pistola in una tecnica aperta che consente comunque di escludere casomai di riparare la pistola o comunque di escluderla dalla funzionalità della cassa creando una minicassa può essere un vantaggio che consideriamo valido nella scelta di approcciarsi al paziente scelto d'amblè un tipo di approccio che potremmo definire che definiamo insomma più invasivo ma chiaramente nessuna tecnica ha solo vantaggi ma ci sono anche gli svantaggi e qual è quello più evidente la necessità di dover fare una un'ampia metoplastica che crea chiaramente dei grossissimi svantaggi non solo estetici ma anche funzionali in quanto il paziente non può bagnare l'orecchio molto spesso ha vertigini anche solo se ha diciamo con l'ingresso di aria all'interno dell'ampia metoplastica vabbè qui io vi ho messo un'immagine che è ingenerosa perché sicuramente non tutte le metoplastiche sono come questa però è per rendere l'idea e chiaramente ha anche difficoltà la potestizzazione perché nelle metoplastiche è difficile riuscire a fare una potestizzazione efficace e solitamente questi sono pazienti che se non da subito nell'evoluzione della patologia hanno un decadimento uditivo che li porta alla necessità di avere una potestizzazione qual è la soluzione a questi inconvenienti con però diciamo sempre nei casi in cui la tecnica canal wall down sia preferibile ad una tecnica più conservativa quella dell'obliterazione obliterazione mastoidea anzi attico mastoidea che ormai nella letteratura scientifica internazionale è considerata obbligatoria nei pazienti pediatrici nei bambini ma che noi osiamo dire dovrebbe essere preferibile in qualsiasi paziente ne abbia la possibilità di farla quali sono i materiali che utilizziamo per fare quali sono i materiali utilizzabili per fare un'obliterazione mastoidea o attico mastoidea il muscolo come innesto libero o come innesto peduncolato il pade d'osso la cartilagine e materiale sintetico esistono in commercio delle sostanze appositamente studiate che ci terrò più avanti che sono appositamente utilizzate per fare l'obliterazione mastoidea e questo risponde anche alla domanda che era stata fatta da qualcuno su quali materiali utilizziamo personalmente devo dire preferiamo e vedo che anche ma per un'esperienza perché li abbiamo usati tutti l'esperienza migliore è quella col patedosso il problema col patedosso può essere il reperimento dello stesso in quanto nelle forme soprattutto nelle recidive si può avere un po' di difficoltà a reperirlo soprattutto in modo sicuro vediamo un caso clinico un paziente con un colestiatoma timpano-mastoideo con una fistola del canale semicircolare questa è l'immagine che vi ho messo anche prima è una sospetta erosione anche qui a livello atticale ma soprattutto vedete con una situazione obiettiva disastrosa cioè erano tite che oltre ad avere il colestiatoma aveva anche delle granulazioni che occupavano tutta la cassa quindi una funzionalità molto scarsa un udito pessimo e una torrea perenne e intrattabile questo era un paziente di 65 anni era sicuramente un paziente che trattare in modo diverso avrebbe potuto portare delle cose di tecniche con uno scarso risultato quindi in questo caso abbiamo deciso di operare direttamente in forma di tecnica aperta questo è il video vedete qua abbiamo già l'accesso alla cassa questo è il lembo questo è il colestiatoma che essenzialmente è nella parte alta della cassa ma vedete che nella cassa timpanica non c'è nulla questo è il nervo facciale quello è la cassa granulazione non c'è catena questo è il perlievo della polvere d'osso che va fatto prima di aprire le prime cellule prima di arrivare al colestiatoma in modo da prelevare una polvere d'osso che non sia contaminata da colestiatoma e bisogna prenevarla un bel po' ma con un po' di pazienza assolutamente una cosa che soprattutto nei casi vergini si riesce a fare bene dopodiché una fresatura in una mastoide e burnea vedete è un colestiatoma con una matrice infiltrativa vedete che è infiltrativa vi sottolineo il dettaglio io quando faccio questo tipo di tecnica ho fatto sempre come per fare una tecnica chiusa in quanto il condotto mi serve come repere solo quando ho fatto diciamo quasi tutta la mastodectomia in tecnica chiusa poi la completo abbattendo la parete posteriore del condotto questa è l'esplorazione della tuba vedete che la tuba è obliterata questo è il muscolo tensore del martello qui c'è l'ampliamento della ticotomia in quanto il colestiatoma era davvero infiltrativo anche anteriormente vedete che in cassa non si riconosce praticamente nulla questo è l'attico totalmente aperto e pulito chiaramente e qui affrontiamo l'area della fistola del canale semicircolare anche qui c'era una grossa infiltrazione proviamo a fare movimenti quanto più delicati possibili onde evitare di aprire totalmente il labirinto e infatti come vedete riusciamo a staccare la matrice dal labirinto membranoso senza vedere osservare con l'uscita di peridinfa quindi questo già è una cosa importante ma vedete che comunque la fistola è molto ampia la parete dovendo fare una tecnica obliterativa non ho abbassato tantissimo il muro del facciale in quanto poi lo stesso andrebbe ricostruito posiziono quindi una fascia a rinforzare la membrana e anche a diciamo a preparare la copertura dell'obliterazione una primo pattedosco e con fascia muscolare messo a riparazione della fistola durale con tisucol della fistola durale scusate la fistola labirintica con il tisucol dopodiché tutto il restante pattedosco ad obliterare l'attico e la mastoide anche questo questo pattedosso viene poi fissato con del tisucol è importante coprire bene tutta l'obliterazione di conseguenza se il lembo muscolare prelevato non è sufficiente può essere aggiunto anche dell'altro materiale come in questo caso vedrete ho aggiunto del pericardio bovino diciamo il tutopace della liodura come la volete chiamare e questa diciamo è la ricostruzione finale in cavità di aperta obliterata voluto portarvi questo caso anche per farvi vedere che noi lo facciamo sempre ripeto facciamo in casi molto difficili da trattare con tecniche più conservative questo infatti è il risultato vedete che il muro la parete posteriore è ben conservata purtroppo la disventilazione del paziente gli ha portato comunque un risultato che non è diciamo esaltante c'è sempre un po' la membrana rimane sempre un po' umida ma il paziente non ha autorrea è abbastanza soddisfatto l'udito è stato preservato era scarso ma è stato preservato e diciamo questo è il risultato di questo paziente come vi dicevo oltre alla polvere d'osso può essere utilizzato anche un materiale sintetico che è questo Bone Live che sono cristalli di biovetro appositamente studiati per l'obliterazione mastoidea che hanno un'alta integrazione ossea e soprattutto un potere antibatterico quindi dovrebbe prevenire le infezioni infatti mentre il problema con l'obliterazione con materiale autologo che sia muscolo che sia grasso che sia cartilagine o osso può essere l'infezione con il Bone Live non si hanno infezioni ma si possono avere delle reazioni infiammatorie infatti ancora più importante nel caso di utilizzo del Bone Live coprire benissimo tutta l'obliterazione in contatto diretto con le pareti cutanee porta a un'infiammazione che può essere anche molto dolorosa per il paziente questi sono altri casi vedete un'altra un'altra obliterazione con osso e questo vedete è un risultato migliore quello che vi volevo far vedere è che in questo caso vedete che l'obliterazione è stata molto efficace per la parte mastoidea un po' meno nella parte atticale anteriore che è sempre quella più difficile da obliterare bene ma comunque una piccola retrazione atticale anteriore è facilmente controllabile e non crea assolutamente problemi al paziente il paziente non ha vertigini può bagnare l'orecchio senza problema questo è un altro caso sempre obliterato con osso e il risultato è questo qui vedete che questa paziente ha una buona ricostruzione anche dell'attico ha semplicemente un po' di riassorbimento nella parte più laterale della mastoide ma anche questo è un dato solo descrittivo che non crea nessun problema al paziente anche la situazione però ha degli inconvenienti primo fra tutti come vi ho detto un'infezione soprattutto quello che porta a un fatto con materiale autologo e infatti il problema è proprio quello perché devo dire che facendo una timpano plastica aperto lavorando con spazi molto ampi l'intervento può essere anche sulla carta in mani esperte più semplice ma scegliere poi tra una canal plastica che come abbiamo visto ha le sue problematiche e una obliterazione che anche essa ha le sue problematiche non è mai facile quindi il messaggio è sempre quello fatela ma se proprio non avete altra scelta e poi c'è anche il colestiatoma recitivo infiltrativo soprattutto in quei casi in cui viene utilizzato l'osso in quanto nell'osso si può incarcerare dell'epidermide che poi ha un andamento poi di recidiva molto subdolo che può non essere identificato con la risonanza e quindi lì bisogna fare molta attenzione forse in quei casi lì il follow up migliore è con la TAC più che con la risonanza in quanto si può apprezzare delle aree di erosione dell'osso piuttosto che la restrizione in DVA in quanto non si forma più la perla ma ha una caratteristica in più qual è il take home message quindi la canal wall down va fatta per esigenze legate alla patologia e non alla necessità del tipo nei bambini io dico per tutti ma soprattutto nei bambini deve essere proprio l'ultima spiaggia cioè comunque nei bambini tentiamo sempre di fare una tecnica più conservativa se non endoscopica esclusiva soprattutto combinata obliterare sempre o quasi sempre con i materiali che abbiamo detto ma soprattutto la nostra esperienza ci porta a preferire il buon patè io vi ringrazio e sono qui per le vostre domande scrivete se dovete scrivere scrivete sul computer di Bonali come Bonali perché vi leggo lì come solito chiedo se ci sono domande da parte dei panelist sulla relazione e poi vediamo se ci sono domande da parte dei discenti Domenico volevo chiedere il tuo atteggiamento in presenza di una fistola del terzo tipo secondo Mileschi cioè quando hai l'endostio diciamo hai una fistola abbastanza che ha mozzato completamente il canale la tratti sempre o lasci la matrice allora la domanda è assolutamente pertinente ma dal mio punto di vista dipende dal paziente ho avuto diverse esperienze perché il discorso qual è? conserviamo l'udito o facciamo giusto è quello per tentare di conservare l'udito tu dici una paziente che non ha già perso l'udito è quella la domanda giusto? immagino esatto quindi il discorso è proprio quello se abbiamo un paziente che ha l'udito togliendo la matrice del colestiatoma rischiamo di farglielo perdere quindi potrebbe essere quello un caso in cui lasciare la matrice e fare la meatoplastica può essere un vantaggio oppure casomai aspettare un secondo tempo se quella matrice si organizza in una perla di colestiatoma che poi più facilmente riportibile devo dirti che nella mia esperienza ho trattato alcuni casi e ci sono stati alcuni pazienti che mi hanno detto non era proprio un udito conservato cioè non è un udito normale è un udito conservato ancora servibile ma comunque ipoacusico rispetto all'altro lato il paziente mi ha chiesto no io non voglio avere le vertigini perché gli ho spiegato che comunque lasciando la matrice facendo la meatoplastica si potevano avere le vertigini e così e quindi mi ha chiesto proprio di e ho avuto due o tre casi così mi ha chiesto di trattare la fistola in modo tale che di fare un'obliterazione e in quel caso lì bisogna asportare tutta la matrice e aprire anche il labirinto devo dire che ho avuto addirittura dei casi in cui nonostante la fistola fosse del terzo tipo e quindi ci sia stata un'apertura anche del labirinto membranoso l'udito ha avuto un calo non significativo probabilmente in quanto ci sono dei meccanismi soprattutto nei colestiatomi molto avanzati lunga data in cui la coclea rimane protetta e quindi il paziente ha delle vertigini anche importanti che però poi passano mentre invece l'udito rimane comunque conservato per quello che era in quanto il labirinto posteriore si separa dal labirinto anteriore per quello che riguarda la funzionalità in definitiva devo dirti che io preferisco quasi sempre trattarlo comunque la fistola e non lasciare la matrice hai risposto perfettamente io volevo proprio dire questo anche il mio orientamento trattarla sempre e comunque perché il labirinto è come se si organizzasse la coclea è come se si organizzasse nelle patologie croniche per cui è molto più resistente rispetto a quello che si può credere e almeno nella mia esperienza io la tratto sempre e devo dire la verità non ho risultati diversi da quando ho lasciato la matrice con lo svantaggio che poi hanno vertigine nel posto operatore un'altra cosa Milesi suggerisce io l'ho fatto per qualche anno durante la dissezione della fistola di praticare del cortisone in bene contestualmente alle manovre di sezione non so fino a che punto questo tipo di procedura sia utile io per qualche anno l'ho fatto poi sai come ma guarda questo lo dicono anche per gli impianti cocleari quando si fanno gli impianti cocleari con la preservazione del dedito di provare a mettere del cortisone in vena che aumenta le probabilità io non ho visto non ho grosse esperienze del colestiatomo ho fatto alcune alcuni protocolli per il colestiatomo in cui volevo preservare i residui uditivi io non ho visto molta differenza da chi ha fatto il cortisone e chi non lo ha fatto sono d'accordo forse c'era Salvatore che voleva dire qualcosa si sente perché non sono ok volevo chiederti una cosa perché ho visto che anche nelle disventilazioni importanti voi date indicazione alla camera wall down dalla rappresentazione e delle immagini che avevi fatto vedere erano immagini otomicroscopico e endoscopiche cioè la domanda fondamentalmente in una tasca molto ampia e profonda come quelle che hai fatto vedere prima dove date indicazione alla camera wall down è legata a un discorso di follow up breve nel senso che vi rendete conto che quella tasca quella grossa cavità tenderà poi a formare un colestiatoma e se esplorabile solo da un punto di vista otomicroscopico o anche endoscopico cioè questo era il discorso allora preciso il punto perché hai fatto bene è importante precisarlo ho detto che la facciamo in quelle che hanno delle recidive cioè se noi se il caso mi si presenta anche con un'ampia tasca di sventilazione ma è vergine io tendo sempre soprattutto in pazienti giovani o pediatrici a fare una forma chiusa endoscopica o combinata che poi adesso ve le descriverà Marco Bonali quando però dopo aver fatto un intervento che secondo me è fatto bene con tutti i concetti di ventilazione e continua ad avere questo grado di disventilazione fin quando c'è una minima disventilazione appunto controllabile con l'ottica anche possibilmente trattabile con dei controlli e delle pulizie autoendoscopiche no però se ci sono delle tasche molto profonde in un paziente che già ho operato con una diciamo con tutti gli accorgimenti possibili per fargli risolvere il concetto di disventilazione allora scifto per una forma aperta obliterata anche in assenza di colestiatoma no 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 è chiaro che no in presenza di colestiatoma ma quelle erano forme erano delle disventilazioni molto 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 importanti quindi quando o c'è il colestiatoma o non la domino cioè o andandoci a guardare con l'endoscopio non domino il fondo quindi non so se lì c'è un colestiatoma e quindi sono costretto a fargli delle risonanze dell'età solo per guardare il fondo della retrazione grazie grazie se è possibile posso farti un'altra domanda questo era un caso in cui vi era evidentemente la presenza di granulazioni ora in questi casi magari con staff assente ricostruisci la catena in un sol tempo o preferisci stadiare domanda retorica però insomma può essere utile per chi ci ascolta no quando ci sono granulazioni in cassa conviene sempre demandare a un secondo tempo non faccio la l'ossicuro plastica perché ha degli scarsissimi degli scarsissimi possibilità di avere di avere risultati soprattutto come sai noi utilizziamo sempre del materiale autologo che comunque devi prelevare quindi rischi addirittura di sprecarlo e quindi casomai se devo prendere della cartilaggia per fare un'ossicuro plastica e in un paziente che ha quel tipo di granulazioni ho il rischio di gettare del materiale che invece in un secondo tempo con una cavità non era quello il caso però diciamo in generale con un secondo tempo dove la cassa si è riventilata e non c'è quella mucosa di granulazione lo faccio veramente molto molto rapidamente ti faccio anche una domanda domenico innanzitutto complimenti per la presentazione io hai detto esattamente una cosa secondo me molto importante c'è che il problema principale delle obiterazioni è il rischio aumentato di infezioni per obbiare a questo problema utilizzi mai delle gocce di antibiotico che mischi al patè ad osso sì ed eventualmente se hai trovato un beneficio e la seconda domanda che ti faccio è questa per quanto riguarda il trattamento di una pistola del canale semicircolare laterale nel caso in cui ci sia una fuoriuscita di perilinfa utilizzi quello che è un po' magari del plugging con un po' di fascia che è un po' quello che si fa nella chirurgia delle vertigini parossistiche posizionali benigni recidivanti non controllabili dove si fa esattamente quello cioè si fa il plugging del canale semicircolare posteriore con l'idea di trattare la patologia ma preservare l'udito lo stesso nel momento in cui si vada a rimuovere della matrice dal canale semicircolare laterale sia della fuoriuscita di perilinfa si esegue il plug in un po' di fascia e si mette il patto addosso come ho visto che hai fatto tu volevo un po' sapere la tua idea insomma sì ok perfetto tutto chiaro ottime domande allora no non uso l'antibiotico secondo me a me piace molto utilizzare il tissucol cioè fissare il patto addosso con tissucol quello mi dà una compattezza dell'obliterazione ed è sufficiente e poi secondo me è importante tenere ben dato il paziente per fare in modo tale che non si facciano delle raccolte ecco quelle sono molto a rischio poi di infezione però la risposta è no non uso antibiotico per quanto riguarda il discorso delle fistole sono d'accordo con te come hai visto lì nel caso che vi ho mostrato il labirinto membranoso era conservato e quindi ho messo prima l'osso e poi la fascia nel caso in cui ci sono nei casi in cui ho trovato una fistola con fuoriuscite per il limpa metto prima la fascia o il muscolo sulla fistola e poi il patto d'osso allora lasciamo un attimo l'audio allora lasciamo la parola al dottor Marco Bonali il quale ci parlerà delle delle timpanoplastiche con approccio endoscopico transcanalare e delle timpanoplastiche invece con approccio combinato per il trattamento del colestiatoma timpanomastoideo inoltre ci parlerà anche di alcuni aspetti importanti nella ricostruzione e della catena ossiculare e della dello scutum vi lascio la parola ok grazie mi sentite? ok allora un attimo solo che condivido lo schermo allora diciamo in partenza che qualche indicazione ve l'ha già data prima il dottor Fernandez nel momento in cui vi ha spiegato un pochino quelle che erano le nostre principali idee come planning chirurgico in base alla tipologia di colestiatoma che ci troviamo di fronte io cercherò di focalizzarmi un attimino di più sul rapporto tra le nostre idee diciamo di trattamento nel rapporto tra endoscopica esclusiva o combinata microscopica endoscopica allora noi siamo partiti ovviamente da dei concetti preliminari che sono dei concetti sia di ventilazione che di controllo di patologia perché consideriamo la mastoide un qualche cosa che non è semplicemente un canale da attraversare per arrivare in cassa ma un qualche cosa di attivo che ha un sistema di scambi gassosi e che ha un effetto buffer per cui secondo la legge di Boyle piccoli volumi mastoidei vanno a influire con grandi pressioni sulla membrana timpanica di conseguenza ridurre il volume mastoideo semplicemente per raggiungere la cassa e fare un intervento su un colestatoma in cassa nella nostra opinione non è indicato ovviamente le altre cose che ci spingono a considerare l'endoscopia sono il fatto di poter controllare eventuali residui di colestatoma in aree poco accessibili quindi in aree nascoste che richiederebbero in microscopia un'ampia fresatura e ovviamente ci hanno aiutati anche a comprendere meglio la ventilazione della cassa e quindi a capire come poter ristabilire la ventilazione in cassa timpanica come vi dicevo il sistema di ventilazione dell'orecchio medio non è un comparto unico ma lo possiamo difidere attraverso il diaframma epitimpanico in una regione postero superiore e in una regione antero inferiore che hanno due tipologie di mucose diverse quindi come possiamo vedere in questa slide noi abbiamo un epitelio di tipo monocellulare quindi come vi ho fatto vedere prima più simile a quello del polmone nel comparto mastoideo mentre un epitelio pseudostratificato e ciliato nella parte antero inferiore che somiglia di più ovviamente all'epitelio nasale quindi abbiamo anche due funzioni diverse dal punto di vista logico il comparto antero inferiore ha una funzione di clearance mucociliare mentre il comparto postero superiore ha una funzione prevalentemente di scambio di gas ma questo scambio di gas è molto importante quindi partendo da questo concetto se è possibile cerchiamo di preservare la mastoide un'altra cosa che abbiamo capito della ventilazione della cassa come aveva spiegato anche prima il dottor Fernandez è che possiamo avere dei colestatomi esclusivamente della regione atticale epitimpanica se abbiamo una normale funzionalità della tuba di eustachio ma abbiamo un blocco dell'istmo che è poi la regione principale attraverso cui passa la ventilazione ai comparti epitimpanici e quindi avere una membrana normale nella posizione inferiore e avere un colestatoma solo della regione epitimpanica in questo caso potete vedere se andiamo a valutare il paziente intraoperatoriamente potete vedere qui un fold che blocca completamente l'istmo timpanico e che quindi ha determinato quello che vedete in questa immagine e quindi un colestatoma esclusivamente della parte epitimpanica passando i concetti chirurgici come possiamo trasformare questi concetti in qualche cosa da applicare poi agli interventi in base a questo è già stato spiegato prima ovviamente noi possiamo permetterci di fare un approccio endoscopico esclusivo nel momento in cui abbiamo un colestatoma che si sviluppa nella cassa timpanica anche nelle aree diciamo poco controllabili microscopicamente come il retrotimpano per esempio ma non deve superare l'antro timpanico perché l'antro timpanico è un pochino il nostro limite ovviamente dipende anche dalla matrice del colestatoma soprattutto se è infiltrativo ma l'antro è il nostro limite che ci permette di effettuare una tecnica esclusivamente endoscopica se il colestatoma si sviluppa anche oltre l'antro ovviamente dobbiamo fare una tecnica combinata ma comunque la parte endoscopica la facciamo lo stesso perché ci permette appunto di esplorare la cassa a nostro avviso in maniera migliore quindi parlando di indicazioni in generale alla chirurgia endoscopica transcanalare esclusiva possiamo dire che la possiamo attuare esclusiva sto parlando nei colestatomi di tipo atticale meso epitimpanico retrotimpanico quindi in tutte le regioni sostanzialmente della cassa timpanica e questo come vi ha fatto vedere il dottor Fernande ci permette di controllare anche sedi molto difficili da controllare normalmente in microscopia come la regione del seno timpanico la regione la regione protimpanica eccetera eccetera e nei colestatomi epitimpano antrali quindi che abbiano un'estensione anche in antro ma con una mastoide burnea e vedremo dopo che questo è il concetto che si ha portati a creare una tecnica che si chiama endoscopica aperta che è una tecnica inside out che parte dalla cassa in endoscopia quali sono le possibili controindicazioni a fare una chirurgia esclusiva sono la presenza di un condotto di tipo esterno stenotico devo dire che raramente ho visto questo tipo di problematica nel senso che comunque con l'ottica 3 mm nella maggior parte dei casi riusciamo a gestire la cosa se non sono stenosi proprio troppo importanti un coinvolgimento come ho detto mastoideomassivo o delle ampie fistole del canale semicircolare laterale che ovviamente non permettono un approccio esclusivamente dalla cassa quando però quindi un esempio classico di quando abbiamo una contraindicazione un approccio endoscopico esclusivo è per esempio un caso come questo dove potete vedere che abbiamo un'estensione di colesteatoma anche nella porzione che va al di là dell'antro e quindi si spinge in mastoide in questo caso vediamo che comunque noi partiamo a livello a livello endoscopico con una tecnica transcanalare andiamo a sollevare il lembo timpano miatale accediamo in cassa e qui possiamo già vedere che abbiamo la nostra staffa e un blocco dell'istmo a questo livello con un'incudine parzialmente rosa andiamo a sganciare la nostra membrana e a distaccarla diciamo da quella regione di blocco dell'istmo e vediamo come la tuba abbia invece un aspetto regolare dobbiamo fare ovviamente un'aticotomia per poter vedere le regioni più superiori della cassa e con un'ottica angolata come vedete in questo caso esploriamo la regione della staffa del facciale del canale semicircolare laterale e andiamo verso l'antro poi è il problema che nonostante la ticotomia e nonostante tutte le nostre ottiche angolate ci rendiamo conto che a questo livello abbiamo un'estensione antrale molto importante e di conseguenza non possiamo riuscire a dominare tutto il colestiatoma completamente per via endoscopica esclusiva quindi in questi casi switchiamo però anche in questo caso la mastidectomia che andiamo a fare non è una mastidectomia molto estesa noi sappiamo che la nostra problematica è a livello dell'antro quindi andiamo a rimuovere il residuo di colestiatoma che dall'antro si spinge in mastoide e poi possiamo fare un ulteriore controllo endoscopico transmastoideo per andare a vedere che non ci siano degli ulteriori piccoli residui nelle regioni che avevamo già esplorato precedentemente tornando alle nostre indicazioni endoscopiche esclusive questo è un piccolo specchietto che vi mostra quello che vi ho detto quindi colestiatomi epitimpatici colestiatomi della cassa e colestiatomi anche con una estensione antrale ma con una mastoide burnea possono essere trattati per via esclusiva endoscopica facciamo degli esempi allora se noi abbiamo un colestiatoma dell'attico senza coinvolgimento mastoideo possiamo procedere a un approccio endoscopico transcanalare con ricostruzione dello scutum questo è un caso come vedete di colestiatoma che si spinge appunto nella regione epitimpanica vedete che ha un'estensione sia laterale che mediale alla catena e in questo caso noi procediamo a un intervento in cui andiamo per via endoscopica a sollevare nuovamente l'embo timpanomiatale qui già possiamo vedere appunto la formazione colestiatomatosa che si spinge nella regione diciamo retrotimpanica epitimpanica andiamo progressivamente a rimuovere il colestiatoma quindi a farci spazio ovviamente una delle prime cose quando vediamo che c'è una catena interessata e rimuovere l'incudine e disconnetterla dalla staffa per evitare ovviamente di avere trazioni sulla staffa durante la rimozione andiamo a rimuovere il colestiatoma per via endoscopica e in questo ci aiuta la magnificazione perché possiamo vedere come potete notare da vicino le strutture per esempio la staffa o il martello e soprattutto preservare appunto in questo caso la staffa e il facciale che sono nella regione in cui c'è il colestiatoma vedete che ci sono dei residui anche in regione epitimpaniche a cui esploriamo la finestra rotonda la regione della finestra rotonda e diciamo che in questo caso ovviamente siamo stati costretti a rimuovere la catena in quanto era già coinvolta dal colestiatoma e quindi non ci permetteva di mantenere integra la catena poi con l'ottica a 45 gradi possiamo andare a esplorare la regione dell'antro per verificare appunto che non ci siano residui di colestiatoma e in questo caso procediamo a rimodellare l'incudine e a fare una siculoplastica porpa con un'incudine rimodellata autologa un altro caso appunto può essere un colestiatoma in cavità timpanica e attico quindi che coinvolge anche la cavità timpanica in maniera anche importante ma senza coinvolgimento sempre di antroemastoide questo è un caso dove appunto anche qui abbiamo diciamo proceduto a elevare l'emmo timpanoneatale l'abbiamo disconnesso dalla catena e dal martello e qui abbiamo questo colestiatoma che si spinge sì medialmente alla catena ma con una catena fondamentalmente conservata è ovvio che questo è un pochino un salto mortale dal punto di vista chirurgico riuscire a portare via dalla regione mediale alla catena un colestiatoma mantenendo la catena integra però con un po' di esperienza è possibile anche riuscire a ottenere questo risultato qui stiamo facendo un po' di anticotomia con piezo surgery quindi uno strumento piezoelettrico che ci permette di lavorare sott'acqua risparmiare l'osso scusate risparmiare i tessuti molli e lavorare solo sull'osso e questo invece è il Vesalius che è uno strumento a risonanza molecolare che ci permette a bassa intensità di andare a pulire i residui dalla regione della catena mantenendo la catena integra senza creare nessun danno dal punto di vista uditivo e infine c'è l'esplorazione finale diciamo della cassa per controllare che non ci siano residui di patologia questo è un altro caso e vado veloce di colestiatoma in cui possiamo vedere un colestiatoma sempre in cassa senza o con involgimento ovviamente di antroemastoide anche qui facciamo una tipotomia e una volta individuato il colestiatoma vediamo che in questo caso non è possibile diciamo conservare la catena quindi quella è una cosa ovviamente che va valutata intraoperatoriamente e che noi decidiamo sulla base del singolo caso ma ovviamente in molte occasioni è necessario sacrificare l'incudine e la testa del martello ed eventualmente utilizzarle successivamente per la ricostruzione qui stiamo rimuovendo i frammenti di colestiatoma e vedrete anche in questo caso che una volta pulita la regione del facciale del canale semicircolare e controllato l'antro con ottica 45 gradi procediamo anche qui a un'incudine rimodellata autologa per la ricostruzione questo è il follow up che potete vedere di quest'ultimo caso a due anni e questo è il risultato ovviamente senza andare a toccare a livello retroauricolare la mastoide quello che vi dicevo prima riguardo la tecnica endoscopica aperta è una tecnica che abbiamo sviluppato nel tempo quando abbiamo capito che se noi abbiamo una mastoide non pneumatizzata possiamo permetterci con una tecnica inside out di fresare in maniera diciamo da rimuovere la parte della parete posteriore del condotto dall'interno dalla cassa e quindi invece di avere una classica cavità come vedete qui di aperta microscopica di avere semplicemente una cavità di questo tipo allargata la demand in base all'estensione del colestiatoma quindi questo è un caso che vi faccio vedere dove appunto abbiamo un colestiatoma che si spinge in antrum con mastoide burnea qui abbiamo il solito lembo timpano meatale vi faccio vedere diciamo la parte saliente in questo caso tra l'altro abbiamo conservato l'integrità della catena perché il colestiatoma si spingeva tutto nella regione dell'antro quindi dopo aver effettuato una ticotomia concuret procediamo con fresa ad allargare progressivamente la nostra ticotomia per diciamo scoprire sempre di più la matrice colestiatomatosa che si sviluppa nell'antro qui vedete che viene allargato sempre di più sempre sotto visione endoscopica della catena per non danneggiarla e andiamo a rimuovere la matrice colestiatomatosa dalla regione antrale come vedrete alla fine l'apertura finale è ampia sotto visione endoscopica ma rispetto ovviamente a una canale wall down classica diciamo che riusciamo a risparmiare comunque buona parte dell'osso mastodeo come vedete qui facciamo un controllo lavoriamo con la presa sotto controllo endoscopico fino a rimuovere tutti diciamo i residui colestiatomatosi dall'antro questa è la catena vista dall'alto potete vedere la corda e la catena ossiculare qui e alla fine il risultato come vedete è questo quindi c'è un'ampia apertura che poi noi andiamo a diciamo a richiudere con cartilagine pericondrio o in alcuni casi con fascia ma prevalentemente con cartilagine pericondrio e questo è il concetto della timpanoplastica endoscopica attenta questo è il follow up dell'intervento e passiamo invece a un altro discorso molto velocemente che è quello del colestatoma congenito allora nella mia opinione il colestatoma congenito piccolo è una delle indicazioni principe per quanto riguarda la chirurgia endoscopica esclusiva dell'orecchio perché noi siamo di fronte a un bambino a cui possiamo cercare di preservare la catena a cui possiamo evitare un'incisione retroauricolare e di conseguenza vi faccio vedere un caso in cui noi abbiamo questa situazione a livello di visione della membrana timpanica entriamo in cassa e ci rendiamo conto endoscopicamente che c'è questo materiale colestatomatoso allora procediamo ovviamente anche qui non è un intervento a volte abbiamo le perle piccole ed è un intervento non difficilissimo a volte abbiamo una matrice più infiltrativa può essere più complesso ma come vedete possiamo andare per via transcanalare a esplorare bene tutta la cassa e quindi a controllare anche la funzionalità della tuba a vedere come potete vedere qui se ci sono residui mediali alla catena anche con le ottiche angolate ancora qui col Vesalius andiamo a rimuovere alcuni residui a livello della catena togliendo questi residui poi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo rimuovuto completamente il colestatoma abbiamo riventilato in questo caso il colestatoma con il quindi possibilmente abbiamo grandi problematiche di tipo di blocco dell'istmo però andiamo a controllare che non ci siano residui e alla fine riusciamo a preservare l'udito e a portare diciamo un intervento che non va a creare problemi senza neanche dover ricostruire la membrana in questo caso ci sono casi ovviamente di colestatoma congenito in cui è più complesso perché abbiamo colestatomi di questo tipo che hanno un coinvolgimento più ampio della cassa timpanica con un'estensione anche verso la mastoide e che quindi non possono ovviamente essere trattati solo per via endoscopica esclusiva transcanalare quindi questo è un bambino di nove anni questo è il primo tempo chirurgico vedete già all'apertura al lembo che abbiamo un colestatoma molto molto esteso quindi molto importante andiamo progressivamente a dissecare il colestatoma e a liberare la regione della platina che risulta diciamo disabitata abbiamo solo diciamo la platina scusate non abbiamo la sovrastruttura rimuoviamo la catena quindi l'impudi nella testa del martello andiamo a rimuovere progressivamente i residui di colestatoma però anche qui vi rendete conto che in antro anche controllando con ottica a 45 gradi abbiamo un residuo anche con matrice infiltrativa che non ci permette di dominare completamente il colestatoma di conseguenza in questo caso decidiamo di switchare e fare diciamo una mastodectomia tailored per quanto riguarda l'estensione sull'antro quindi andiamo a aprire l'antro a rimuovere il residuo di colestatoma e a controllare poi endoscopicamente attraverso la mastodectomia che non ci siano ulteriori residui in cassa quindi questo serve per vi assicuro che dal punto di vista chirurgico nel momento in cui voi andate a fare una combinata ma avete già pulito tutta la cassa avete visionato dove è la platina della staffa conoscete diciamo l'assetto anatomico del paziente fare la parte combinata è assolutamente molto semplice perché sapete già dove si trova il residuo da andare a rimuovere qui non abbiamo ricostruito data appunto come abbiamo discusso prima con gli altri colleghi la catena e in un secondo tempo funzionale scusate in un secondo tempo di controllo abbiamo fatto l'aspetto funzionale e abbiamo tolto anche un residuo scusate una recidiva che si era formata nel frattempo quindi andiamo a rimuovere questa perla di colestatoma e successivamente abbiamo proceduto dopo aver tolto il colestatoma a un'ispezione della cassa rimuovendo la cignia fibrose a rimuovere un ulteriore frammento di colestatoma ed infine abbiamo eseguito una ossiculoplastica in questo caso una torp ma fatta con cartilagine esclusivamente sulla platina con una forma V-shape quindi abbiamo creato una V-shape a livello di un frammento di cartilagine tragale prelevato come potete vedere qui creando una V per l'alloggiamento diciamo della cartilagine il match con il martello e abbiamo posizionato il martello a contatto con questa cartilagine quindi il piede della cartilagine appoggiato sulla staffa e la V che si incastra perfettamente con il martello questo è il follow up a tre anni e considerando anche l'estensione che aveva il colestatoma inizialmente direi che possiamo ritenerci soddisfatti in questo caso passiamo alla ricostruzione così poi concludo quali sono i concetti principali della ricostruzione se noi consideriamo diciamo valutiamo la chirurgia dell'orecchio medio con un obiettivo conservativo quindi non più come si faceva agli albori dell'otologia dobbiamo pensare anche nel momento in cui apriamo e cominciamo un intervento a quello che dovremo fare nella ricostruzione questo è un concetto che soprattutto per gli specializzanti secondo me è importante iniziate l'intervento già dovete fare quello che fate nella rimozione deve essere già con l'idea di quello che poi dovrete fare durante la ricostruzione perché a ogni caso è a sé stante quindi dobbiamo rimuovere la patologia e poi c'è una fase ricostruttiva quali sono le ricostruzioni ovviamente lo scutum può essere la membrana timpanica e ovviamente la catena ossiculare possiamo avere per quanto riguarda nel coinvolgimento dell'anulus o meno e tecniche differenti noi utilizziamo una tecnica underlay endoscopica e ci sono diversi underlay overmalleus normalmente quindi passiamo al di sotto dell'anulus timpanico ma poggiamo il nostro innesto al di sopra del martello del manicolo del martello e si possono utilizzare diversi materiali che possono essere ovviamente in generale letteratura di questo tipo quindi allograft autograft senograft sintetici noi per scuola tendiamo ad utilizzare sempre del materiale autologo del paziente se possibile perché comunque riteniamo che sia il materiale più che si integri meglio che non abbia rischi di estrusione anche per quanto riguarda le ossiculoplastiche e quindi utilizziamo materiale autologo se possibile quindi per quanto riguarda la membrana fascia del temporale cartilagine pericondrio che poi vi farò vedere o a volte ci è capitato di utilizzare anche la membrana biodesign che è una membrana diciamo della sottomucosa di intestino di maiale che può aiutare però quando abbiamo difetti importanti o quando abbiamo diciamo una cassa con un tessuto una mucosa non buona a mio avviso comunque la biodesign non è sufficiente per garantirci un neotimpano integro nel follow up cominciando dalla ricostruzione con periconde cartilagine noi tendenzialmente facciamo questo innesto ad isola in cui lasciamo uno strato di pericondo di trago e la cartilagine composta diciamo in questo modo ad isola con una tasca diciamo per con il martello andiamo a posizionarlo appunto in underlay al di sotto dell'anulus e andiamo a appoggiare questo questa diciamo questo groove che abbiamo creato a livello del manico del martello per ottenere una buona chiusura poi del del neotimpano e facciamo ricostruzione questo è un altro caso appunto in cui vedete la ricostruzione per quanto riguarda la cartilagine la cosa più importante è prendere bene le misure perché lavorando con una mano se la misura non è perfetta della cartilagine ci troviamo ad avere una ridondanza che ci può creare dei problemi nel posizionamento corretto dell'innesto e questo è il risultato finale con cartilagine e vedete qui al follow up appunto questi pazienti è chiaro che questo ci impedisce di fare un follow up vedendo all'interno della cassa perché ovviamente la cartilagine essendo più spessa non ci permette una visione chiara però nei difetti molto importanti nella nostra esperienza viene utilizzata cartilagine si possono fare ricostruzioni anche con fascia del temporale o appunto non facendo un approccio elettroauricolare molto più spesso utilizziamo solo uno strato di pericondrio quindi preleviamo un unico strato di pericondrio lasciando la cartilagine in sede e andiamo a chiudere il difetto questo è il follow up utilizzando il pericondrio oppure appunto vi dicevo la membrana biodesign vi faccio solo vedere un piccolo pezzettino dove si vede che rispetto a cartilagine scusate a pericondrio e fascia è un pochino più rigida di conseguenza ci permette di manovrarla un po' meglio nel momento anche in cui si debba diventare umida durante le manovre mentre la fascia all'inizio per chi lavora in endoscopia le prime volte può essere complessa da gestire perché tende ad applicarsi e a fare diciamo a cartocciarsi e andiamo vedete qui la cosa importante è il dominio della porzione anteriore della membrana vedete come noi riusciamo a posizionare l'innesto in maniera da non avere diciamo grossi dubbi sul posizionamento questa è la tecnica che facciamo diciamo più spesso che è la ricostruzione multistratto quindi un difetto del genere noi lo gestiamo con un innesto di cartilagine pericondria di isola come vi ho fatto vedere ed utilizziamo successivamente il secondo strato qui vedete anche una ripostruzione della catena con un inquidine utilizziamo il secondo strato di pericondrio quindi l'altro strato di pericondrio che abbiamo rimosso dalla cartilagine tragale per fare un second layer e posizionarlo anteriormente a contatto al di sotto diciamo dell'anulus anteriore quindi avete qui il primo strato la prima isola di cartilagine pericondrio posizionata già in maniera corretta anteriormente ma vi rimane sempre questo piccolo gap anteriore che col sangue a volte può sembrare chiuso ma a volte nel follow up vi crea questa semiluna di caduta del graft che non attecchisce questo secondo strato di pericondrio viene posizionato tra il graft messo prima ad isola e la membrana e viene fatto scivolare anteriormente in modo da ottenere una completa chiusura del difetto e un migliore attecchimento del graft lo scutum è la stessa cosa quindi vi faccio vedere solo che utilizziamo anche qui un innesto di cartilagine pericondrio molto spesso per chiudere un difetto dello scutum che abbiamo creato per la fresatura a volte è capitato di utilizzare anche corticale mastoidea però prevalentemente utilizziamo pericondrio e cartilagine e questo è appunto l'innesto di biodesign ma è più che per spiegarvi il concetto della biodesign è per farvi vedere che nel momento in cui voi avete una cassa con una mucosa sana quindi non brutta che non ha tessuto di granulazione che non tende a creare una disventilazione nella nostra opinione anche mettendo un innesto di biodesign che è una struttura molto più leggera ovviamente rispetto alla cartilagine noi abbiamo un risultato ottimo a prescindere quindi è importante valutare lo stato della mucosa in cassa il packing quando noi andiamo a mettere il graft è molto importante mettere dei frammenti di spongostan al di sopra dei bordi del graft una volta posizionato per stabilizzarlo quindi quando abbiamo ribaltato la nostra membrana con il nostro graft andare a posizionare dapprima dei frammenti di spongostan antero-superiormente antero-inferiormente e poi lungo tutti i bordi del nostro lembo-timpano-miatale per diciamo stabilizzarlo e come vi dicevo prima la manovrabilità del graft ovviamente la cartilagine in endoscopia ad una mano è più semplice perché è più dura e rigida ma è molto importante prendere misure precise perché altrimenti non riusciamo a posizionare correttamente l'innesto e possiamo avere dei problemi al secondo posto come manovrabilità abbiamo pericondrio e by design perché sono più morbidi della cartilagine ma meno applicabili rispetto alla fascia del temporale e come difficoltà a mia opinione almeno nella mia esperienza la fascia all'inizio dell'esperienza endoscopica può creare qualche problema nel momento in cui si accartoccia e va stesa per essere posizionata bene finisco con le ossiculoplastiche come vi ho detto anche qui sempre se possibile materiale autologo quindi noi utilizziamo IRA cartilagine tragale o in qualche caso anche corticale mastoidea però prevalentemente IRA e cartilagine tragale questo è un esempio di ricostruzione della catena con incudine rimodellata autologa che viene rimossa qui abbiamo la staffa quindi andiamo la sovrastruttura quindi andiamo a effettuare una corp tra il martello e la staffa in questo caso anche qui vedete a volte si può creare addirittura oltre a un match dell'incudine per il capitello della staffa facendo un piccolo solco durante la preparazione della ricostruzione e anche un piccolo groove per il manico del martello su cui appoggiare il manico a livello dell'incudine l'altro innesto che si può fare di corticale mastoidea però come vi dicevo lo utilizziamo meno prevalentemente utilizziamo cartilagine e incudine e finisco con questa che è l'ultima ricostruzione che utilizziamo quando l'incudine non è disponibile perché magari abbiamo un secondo tempo in cui l'incudine era già stata rimossa era rosa facciamo la tecnica che viene definita tecnica di malafronte dove se abbiamo il capitello della staffa preleviamo un piccolo frammento di cartilagine tragale lo incidiamo togliamo una parte del pericondrio creiamo un doppio blocco ribaltando i due diciamo i due frammenti di cartilagine uno sull'altro e creiamo un doppio blocco di cartilagine che poi si va a appoggiare sul capitello della staffa e a livello del martello della membrana oppure addirittura nel momento in cui non abbiamo la sovrastruttura della staffa andiamo a utilizzare il pistone di una protesi stapediale a cui rimuoviamo l'anello per l'incastro con l'incudine lo tagliamo manteniamo il pistone della staffa lo conficchiamo all'interno del doppio blocco di cartilagine e andiamo a utilizzare quello come diciamo come innesco come ricostruzione per andare a fare una torp questo è un esempio di doppio blocco quindi doppio blocco cartilagine posizionato al di sopra del capitello della staffa e questo vado l'ultima slide l'ultimo innesto vi faccio vedere è questo di scusate doppio blocco di cartilagine con il con il suo pistone avete intravisto qui col pistone che viene posizionato sulla platina stapediale e il doppio blocco lo vedete qui in contatto poi o con la membrana o con il manico del martello quindi questa è un po' la nostra filosofia per quanto riguarda le ricostruzioni io vi ringrazio per l'attenzione e se avete domande sono qui posso? allora volevo sapere una cosa quando fate le timpanoplastiche endoscopiche aperte con mastoide bornea vai sempre a ricostruire con la certezza di aver tutto il colessiatoma o qualche volta lasciare aperto che si distenda e lasci un'ampia tasca di detrazione esplorabile potrebbe essere utile poi un'altra cosa così non chiedo più niente io utilizzo il doppio blocco di cartilaggio qui mi trovo decisamente bene mentre invece quando ho provato con il torpo con il pistoncino mi fai sempre spostato tutto sia utilizzando la tecnica endoscopica che quella diciamo otomicroscopica tenendo sempre conto delle ossicuroplastiche delle percentuali sempre comunque almeno nella mia esperienza ma penso un po' tutti non proprio entusiasmante dell'ossicuroplastica in generale e chiedo a te tu che ne puoi sì allora per rispondere alla tua prima domanda sul discorso della endoscopica aperta allora intanto ti dico abbiamo anche tentato di fare l'obliterazione nell'endoscopica aperta ma non ha dei risultati che ci sono piaciuti quindi quella l'abbiamo abbandonata subito per quanto riguarda la ricostruzione come hai detto tu nel momento in cui siamo in grado di dominare bene tutta la regione sappiamo che abbiamo tolto tutto perché magari la mastoide è molto contratta possiamo ricostruiamo quindi con cartilagine con il diciamo lattico in altre occasioni è capitato di utilizzare semplicemente un innesto di fascia e lasciare appunto la retrazione per poter poi controllare successivamente il risultato per quanto riguarda la torp ti posso dire che noi stiamo revisionando un pochino la nostra casistica ed effettivamente ci siamo resi conto che anche la torp fatta col pistone ci sono ottimi risultati cioè abbiamo avuto dei risultati adesso chiedo anche a Matteo che penso che abbia fatto anche lui la revisione ma abbiamo avuto dei risultati addirittura comparabili cioè nel senso che non abbiamo avuto dei risultati peggiori con la torp rispetto alla torp col doppio blocco di cartilagine questa è la nostra esperienza personale quindi ti dico però noi lo utilizziamo molto cioè è una tecnica che ci piace che ci dà degli ottimi risultati anche funzionali quindi lo facciamo piace anche a me era giusto no 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 capisco che la torp sia anche un po' più complessa da posizionare sul pop doppio cartilagine doppio blocco di cartilagine mi trovo decisamente bene quasi meglio di altre cose insomma anche per te nella mia esperienza la cartilagine ha una certa elasticità in più che ti permette anche quando vai a fare lo sicuro plastica di avere meno problemi con una mano sola anche endoscopicamente nel posizionarla rispetto magari a un incudine che è un pochino più rigida quindi poi se non è in contemporanea con l'intervento ti capita di fare una sicuro plastica come se in un momento non hai la l'incudine insomma è un attimo dal pericone di un attimo esatto Marco una domanda non so se l'hanno già fatta perché ho avuto problemi di connessione ma sul timing della ricostruzione tendenzialmente lo fate subito o demandate al second look è una domanda ampia diciamo così però no certo diciamo che tendenzialmente come poi in parte aveva già detto prima domenico noi valutiamo lo stato della cassa della mucosa valutiamo lo stato anche della catena se c'è una demineralizzazione della catena ma soprattutto com'è l'aspetto della mucosa se c'è un tessuto di granulazione eccetera tendenzialmente se abbiamo una situazione di questo tipo e magari con un colestratomo importante eccetera in cassa preferiamo demandare un secondo tempo in cui facciamo anche poi un check della cavità se abbiamo una situazione in cui tutto sommato la mucosa non è così male non c'è molto di esterolazione riusciamo a avere un incudine che sia riutilizzabile magari preferiamo provare direttamente a fare in un unico tempo anche la ricostruzione però molto spesso quello che ci aspetto della mucosa in cassa è la situazione ovviamente della ventilazione della cassa timpanica Marco posso farti un paio di domande dunque la prima domanda è questa cioè riprendendo anche quello che diceva poi il dottor Fernandez sui criteri classificativi effettivamente sono anni che ne discutiamo sulla esigenza di definire un pochettino o meglio o di classificare meglio le tecniche diciamo di chirurgia per il colestiatoma da che c'è effettivamente la la endoscopia che è stata introdotta a pieno titolo un pochettino nella nella chirurgia del colestiatoma e vedo con piacere che finalmente voi avete coniato il termine di tecnica endoscopica aperta in effetti ne discutiamo da diversi anni quando facciamo un approccio endoscopico e abbattiamo lo scutum nel caso poi specifico anche una parte di mastoide alla domanda come la definiamo una tecnica chiusa una tecnica aperta una tecnica aperta obliterativa ecco tecnica endoscopica aperta mi sembra sicuramente un passo in avanti cioè è una tecnica aperta perché viene comunque a essere ricostruito lo scutum o addirittura obliterato dipende poi da come lo ricostruisci e quindi mi auguro che in un prossimo futuro si possa standardizzare un criterio classificativo che può essere accettato un po' da tutti l'altra diciamo domanda era sul check finale durante la timpanoplastica endoscopica se hai mai utilizzato come insomma quello che io faccio insomma un po' nella mia esperienza c'è un'irrigazione a bassa pressione con una soluzione fisiologica tipida per vedere per evidenziare eventualmente piccoli residui o come qualche altra volta hai dimostrato la illuminazione spectra che ti consente di vedere piccoli residui queste erano le due domande voglio sapere un po' la tua opinione soprattutto sulla classificazione anche quella del dottor Fernandez se ci può rispondere allora io parto dall'ultima domanda che mi hai fatto per dirti che l'approfitto per dirlo anche appunto visto che ci sono molti ragazzi anche giovani all'ascolto io ho visto questa tecnica dell'idrodisena a bassa pressione questa irrigazione scusami a bassa pressione che tu fai e senza di appunto spectra come abbiamo noi per esempio al policlinico è molto interessante in quanto proprio si gonfiano i residui di epiderio secondo me è un metodo anche per chi magari inizia e non ha a disposizione tutte le diciamo le colonne varie che ci possono essere di tipo endoscopico per avere comunque un controllo dell'estero matoso quindi secondo me questa è una tecnica molto molto interessante quello è molto interessante noi utilizziamo avendo la colonna appunto dedicata con la spectra utilizziamo spectra perché sono delle diciamo tipologie che ci permettono di vedere il colestero ma molto più brillante più bianco brillante rispetto ai costanti quindi di vedere se ci sono dei residui però ho avuto modo di apprezzare anche diciamo l'irrigazione a bassa pressione perché è molto utile in questo caso per e tu hai dei video molto belli che qui non li possiamo far vedere perché non c'è tempo però sono molto belli dove si vede proprio il residuo colestero matoso che si diciamo si si palesa quando si va a fare questo tipo di irrigazione lascio magari Ignazio rispondere alla classificazione perché così magari insomma puoi parlare anche volevo dire due cose anche sulla spectra perché abbiamo fatto una revisione che è in via di pubblicazione proprio sulla nostra esperienza diciamo utilizzando questa tecnica ed effettivamente un piccolo aiuto lo dà è operatore dipendente perché l'occhio bisogna farcelo anche sulla spectra come con la luce bianca quindi l'esperienza aiuta e l'altra cosa è che la spectra può dare diciamo dei falsi negativi quando il campo non è perfettamente pulito quindi se c'è un pochino di residuo ematico la spectra non si fa vedere il colestero ma quindi come succede per la luce bianca bisogna avere un campo perfetto per evitare diciamo di mancare dei piccoli residui per quanto riguarda invece la classificazione io diciamo quella che vi ho fatto vedere diciamo era una classificazione di massima anche in letteratura per quanto riguarda le tecniche endoscopiche diciamo transcanalarie endoscopiche diciamo sono quelle tre che vi ho fatto vedere quindi una tecnica transcanalaria endoscopica limitata una tecnica transcanalaria endoscopica aperta nella quale diciamo non è prevista una ricostruzione quindi è una aperta a tutti gli effetti una aperta però con una cavità limitata perché ovviamente l'indicazione dell'aperta endoscopica è quando abbiamo una mastoide eburnea quindi con al massimo un antro quindi noi esteriorizziamo l'antro per via endoscopica con una tecnica inside out e questo consente di non dover fare una meatoplastica quindi lasciamo assolutamente il meato naturale e consentiamo di avere una cavità un pochino più ampia con un epitimpano e un antro esteriorizzati che diciamo sono perfettamente ben controllabili in endoscopia e diciamo senza possibilità di ulteriore retrazione per intendersi perché la mastoide già è eburnea e quindi è una tecnica direi abbastanza sicura quando l'indicazione è corretta ovviamente se noi la facciamo in un paziente con una mastoide pneumatizzata corriamo il rischio di avere delle retrazioni della diciamo della nostra della nostra cavità che poi non potremo controllare quindi è poi una recidiva di colestiatoma quindi è molto importante scegliere bene il paziente prima di fare questa metodica e poi sì ci sarebbe da classificare perché ci sono alcune varianti che possiamo utilizzare nel senso che in alcuni casi ci è capitato anche quando l'antro è un pochino più ampio di quello che noi vorremmo di obliterarlo per esempio in alcuni casi utilizziamo frammenti di cartilagine e ci posizioniamo sopra la fascia per ridurre l'ampiezza della cavità quindi facciamo a tutti gli effetti una piccola obliterazione una perta obliterata endoscopica tutto per via transcanalare quindi questo sicuramente è una cosa che anzi mettendoci d'accordo tra di noi potremmo anche decidere di pubblicare perché sono tutte cose non descritte in letteratura che possono essere standardizzate e definite ti ringrazio per la risposta sono d'accordo bisogna secondo me mettersi un po' d'accordo per me sono delle piccole tipoplastiche aperte cioè questo sposando una filosofia di chi come me ha sempre abbracciato la tecnica aperta nella chirurgia del colessiatoma come prima scelta per la ricorrenza della patologia e per questo motivo credo che la endoscopia è entrata subito nelle mie corde perché alla fine si faceva una tipoplastica aperta in miniatura perdonami questa fammi passare questo termine sono pienamente d'accordo tra l'altro diciamo alcune in alcuni casi si può effettuare anche se qui ovviamente c'è poi da discutere una bondi modificata endoscopica quando quando abbiamo un antro piccolo e abbiamo un cavo timpanico ben areato diciamo possiamo esteriorizzare l'epitimpano e l'antro isolando bene il cavo timpanico dall'epitimpano quindi è possibile fare diciamo anche questa variante quindi tutte queste cose potrebbero essere standardizzate definite per quanto riguarda proprio la chirurgia endoscopica perfetto risentirci presto ritorneremo sull'argomento ok allora se se non ci sono se non ci sono altre domande io passerei all'ultima relazione frontale così poi cominciamo magari con un po' di interazione ai casi clinici e ce ne parla il dottor Matteo Fermi che è uno specializzando della nostra clinica poi di Modena e che con me ha organizzato questo webinar e che ci parlerà invece dell'aspetto del follow up e poi risponderà alle vostre domande visto che già ne avete fatte e quindi poi procederà a rispondere a tutti i vostri dubbi ok ok allora buon pomeriggio a tutti io vi parlerò del follow up post operatorio di Colestatomity in Panama Stoidei riportandovi anche un po' l'esperienza che ho maturato qui a Modena in questi tre anni e mezzo di specialità e di cosa parlerò quindi inizierò parlando del protocollo di follow up che tendenzialmente noi utilizziamo è chiaro che un vero e proprio protocollo per una patologia di questo tipo che ha un'altissima personalizzazione da paziente a paziente non è facilmente strutturabile però cercherò di trasmettervi alcune delle linee guida che noi applichiamo quotidianamente successivamente cercherò di rispondere alla domanda chirurgia di revisione quando, come, perché l'imaging che sicuramente ha un ruolo nel protocollo di follow up anche questo ha dei grossi quesiti non c'è una standardizzazione ci sono autochirurghi che ne fanno un utilizzo molto meticoloso per indicazioni estremamente precise ve ne sono altri che invece hanno un protocollo standardizzato di imaging con esami specifici cadenzati a dati tempi post intervento ed infine una piccola premessa su quelle che poi sono le prospettive future per quello che è il follow up di questi pazienti chiaramente partendo dalle banalità nulla può cominciare a livello del follow up se non partiamo da un esame obiettivo dei pazienti che può essere fatto sotto forma di otomicroscopia o sotto forma di otendoscopia noi abbiamo acquisito esperienza negli anni con le ottiche quindi per seguire questi pazienti nel post operatorio le utilizziamo regolarmente un'analisi dell'outcome audiologico è importante attraverso l'esame audiometrico e l'imaging al bisogno in linea di massima come ci comportiamo dopo l'intervento rivalutiamo i pazienti in prossimità dello stesso per chiaramente fare medicazioni locali rimozione punti di sutura e per valutare l'outcome chirurgico in termini di cicatrizzazione di flogosi a livello della zona operata la seconda valutazione a patto che la prima ovviamente non abbia alcun tipo di problematica viene fatta a circa distanza di due o tre mesi dove se la cicatrizzazione è ad uno stato sufficientemente avanzato facciamo già una valutazione abbastanza precoce dell'outcome audiologico ed infine valutiamo i pazienti a distanza di circa sei mesi dall'intervento per rifare il punto della situazione ed organizzare un follow up che sia quanto più personalizzato caso per caso e secondo noi è utile valutare questi pazienti avendo a disposizione ogni qual volta vengono a controllo tutta la documentazione clinica che li riguarda partendo dalla documentazione preoperatoria quindi sintomatologia estensione della patologia gli esami radiologici che sono stati fatti le soglie dell'esamo audiometrico preoperatorie ma soprattutto la valutazione non può prescindere da una conoscenza approfondita del verbale operatorio è chiaro che questo non è sempre possibile molti di noi si trovano talvolta a valutare pazienti operati in altra sede e sappiamo tutti quanto sia raro avere a disposizione un atto operatorio completo e utile per decidere come gestire il paziente in questione probabilmente questa è anche una delle ragioni per cui molti tra virgolette abusano dell'imaging per rivalutare la situazione anatomica del paziente e fare un counseling al paziente quanto più preciso possibile per decidere cosa fare i pazienti vengono poi valutati al follow up dove noi teniamo nota di tutte quelle che sono le valutazioni appunto obiettive dei pazienti con quelle che sono le complicanze che questi pazienti hanno sviluppato e ovviamente prendiamo in considerazione anche l'outcome audiologico tutto questo richiede molto lavoro chiaramente ma è anche il presupposto fondamentale per poter cercare di fare qualche progetto di ricerca con dei dati raccolti in maniera precisa e attendibile che ci permetta di avere dei dati anche da condividere con gli altri colleghi per migliorare l'outcome dei nostri pazienti infine la registrazione ad ogni controllo del quadro obiettivo di questi pazienti a mio avviso è importante perché vedere l'evoluzione della clinica del paziente dà delle indicazioni su quello che è la progressione del quadro disfunzionale del paziente ci permette di sbilanciarsi di sbilanciarci verso una scelta terapeutica piuttosto che un'altra infine come vi dicevo il follow up di questi pazienti viene pianificato in base a tutti questi dettagli in linea di massima provo a rispondere alla domanda che veniva sollevata poc'anzi il second look lo facciamo a distanza di un anno un anno e mezzo ahimè a volte siamo costretti a farlo a distanza di anche più tempo per motivi più che altro organizzativi più che clinici viene solitamente preso in considerazione in pazienti che hanno delle situazioni di partenza con colestiatomi estremamente estesi con una matrice infiltrante dove quindi l'asportazione per quanto fatta anche con l'ausilio delle ottiche non può essere con certezza perentoria appunto completa e la presenza di tessuto di granulazione che impedisce di valutare aree della cassa timpanica ed eventualmente anche la necessità appunto di stadiare l'ossiculoplastica come spiegava poco fa anche Marco ogni qualvolta invece ci troviamo a che fare con dei colestiatomi limitati pensiamo ai colestiatomi ad esempio della parsflacida che hanno un'estensione soltanto a livello della regione del prussaco dell'epitimpano posteriore senza un'erosione importante della catena ossiculare e laddove la mucosa della cassa timpanica è una mucosa relativamente normale salvo la zona appunto dove è localizzata la malattia in quei casi tipicamente teniamo i pazienti sotto controllo e li rivalutiamo ogni sei mesi circa se hanno delle condizioni cliniche che non sono perfettamente stabili ogni dieci dodici mesi se le condizioni cliniche sono stabili in realtà la volontà sarebbe quella di valutarli anche un pochino più assiduamente ma ripeto le necessità organizzative poi cozzano con quelle che sono le possibilità che vorremmo proporre a tutti questi pazienti quindi in linea di massima questo è quello che riusciamo a fare ogni qualvolta valutiamo dei quadri otendoscopici ci possiamo trovare di fronte a una situazione di questo tipo dove abbiamo due neotimpani perfettamente integri non particolarmente retratti dove a sinistra ad esempio vediamo un innesto per il controllo cartilagineo a ricostruire la porzione atticale e lo scutum in questi pazienti possiamo affidarci in maniera buona con buona affidabilità appunto alla valutazione clinica pertanto non siamo inclini a chiedere imaging di default vi sono però delle situazioni che possono anche avere un certo grado di dubbio in questo caso dubbi in realtà non ce ne sono tanti a destra vedete un caso in cui abbiamo un residuo di colestetoma che provoca una lateralizzazione importante del neotimpano e della porzione diciamo di parete laterale epitimpanica e qua ci sono pochi dubbi bisognerà rimetterci mano per evitare che questo colestetoma cresca ulteriormente a sinistra una tasca di retrazione epidermizzata non autopulente e anche con l'ausilio delle ottiche che anche con l'ausilio delle ottiche per l'appunto non riusciamo a controllare nella sua interezza altre situazioni in realtà poi possono essere più dubbie qua abbiamo sulla destra un caso di atelettasia con una area biancastra in corrispondenza della regione della finestra ovale potrebbe essere molto facilmente un ossiculoplastica o una malafronte porc o una incudine rimodellata per quello abbiamo bisogno di valutare il verbale operatorio di quei pazienti per poterla interpretare per bene le tasche di retrazione devono essere valutate fino a prova contraria per definirne l'estensione e la capacità di auto pulirsi e in questo pensiamo che il valore dell'endoscopia possa dare una mano qui vedete una ottoendoscopia fatta in un quadro di timpanoplastica aperta non obliterata ora chiaramente in un quadro di timpanoplastica aperta abbiamo una meatoplastica sono pazienti che sono considerati essere relativamente facili da vedere anche con una otomicroscopia classica ma in questo caso notate questo paziente ha un bulging della parete anteriore quindi non è poi così facile andare a vedere la porzione antrinferiore dell'anulus per essere sicuri che non ci siano problemi ed inoltre troviamo che in questi pazienti l'utilizzo delle ottiche ci dia una mano anche a eseguire il toilette appunto della cavità il toilette della cavità che lo dico anche per i miei colleghi specializzanti che ci stanno ascoltando è il primo vero e proprio step di training chirurgico con l'endoscopia per la chirurgia dell'orecchio bisogna prima imparare a vedere l'orecchio poi a pulirlo e a trattarlo a livello ambulatoriale poi successivamente viene la parte chirurgica ok detto questo fatto un piccolo cappello introduttivo su quello che sono i concetti che guidano il nostro follow up quali sono le red flag a cui dobbiamo fare riferimento quando valutiamo questi pazienti sicuramente la possibilità di vedere di vedere l'esame audiometrico di questi pazienti a ogni valutazione è importante e ogni qualvolta abbiamo una perdita uditiva importante al follow up dobbiamo prenderla in considerazione prenderla in considerazione perché innanzitutto dobbiamo capire la motivazione per cui questi pazienti hanno perso l'udito ed in secondo luogo ci dobbiamo chiedere se sia effettivamente necessario o indicato mettere mano su questi pazienti per cercare di migliorare la loro condizione uditiva ora chiaramente quello che guida la scelta nel eseguire una chirurgia di revisione con una ossiculoplastica è soprattutto l'esperienza del chirurgo ma se andiamo a riguardare un po' i dati presenti in letteratura ci sono alcuni studi che ci possano aiutare per predire l'esito dell'ossiculoplastica o comunque di una revisione di ossiculoplastica se siete interessati all'argomento questi due studi che ho consultato sono molto interessanti sono studi con un campione particolarmente numeroso dove viene da prima validata questa scala prognostica chiamata ossiculoplasti outcome parameter staging index ed in seguito viene valutata la sua applicazione ad una popolazione di pazienti sia per valutare i risultati short term sia per valutare i risultati long term i valori i parametri che vengono presi in considerazione che quindi devono rimanere in testa noi quando valutiamo questi pazienti sono è un orecchio stabile quello con cui stiamo avendo a che fare il paziente ha un otorrea sì per quanto tempo la mucosa quando abbiamo operato questo paziente come era normale o era una mucosa granuleggiante o c'erano esiti sclerotici quindi un iniziale ad esempio timpanosclerosi qual è lo stato della catena ossiculare con cui ci andiamo a confrontare ed infine la condizione chirurgica in cui questi pazienti si vengono a trovare sappiamo tutti che i risultati funzionali sono risultati diversi nei pazienti in cui è stata fatta una preservazione della parete posteriore del condotto rispetto a quelli in cui questa qua non è stata fatta come vedete sulla sinistra c'è una buona correlazione lineare all'aumentare del indice in questione con l'airbone gap quindi più fattori di questa scala prognostica sono presenti peggiore sarà l'outcome audiologico questo ci permette sia a breve termine e qui a lungo termine di farci un'idea di quello che potrebbe essere il beneficio del paziente in più l'esperienza mi ha insegnato che altre sono le cose da prendere in considerazione com'è questo orecchio medio con cui abbiamo a che fare ventilato per me è molto utile la valutazione di questi pazienti non solo l'obiettività ma anche la manovra di Valsalva perché permette di valutare la ventilazione dell'orecchio medio in più utile valutare lo status della catena ossiculare quindi capire se a questi pazienti possiamo fare o una ricostruzione POR o una ricostruzione TOR adesso stiamo provando ad analizzare i dati delle nostre ossiculoplastiche l'impressione che abbiamo è quella che comunque i pazienti che fanno una ossiculoplastica totale abbiano un risultato funzionale peggiore rispetto ai pazienti che fanno una ricostruzione di catena parziale sebbene non ci sia una differenza così importante l'altro fattore importante è sicuramente la presenza o assenza di colestatoma residuo ricorrente in realtà le ho messe tutte e due queste condizioni perché ci possiamo trovare davanti a degli esiti chirurgici perfettamente stabilizzati stabilizzati da lungo tempo nei quali possiamo con un certo grado di affidabilità sostenere che abbiamo fatto un intervento diciamo primario radicale in questi pazienti possiamo andare a mettere mano sulla situazione della catena ossiculare sperando di non destabilizzare il quadro otologico del paziente viceversa in alcune situazioni abbiamo pazienti con presenza di un esito chirurgico non completamente stabilizzato e quindi l'indicazione a metterci mano per stabilizzare la situazione o per rimuovere la patologia residua ad esempio può essere portata avanti in parallelo con la necessità appunto di andare a rimettere mano sulla catena ossiculare per migliorare l'outcome audiologico infine appunto cercare di quantificare quello che è l'earing gain aspettato valutare sempre l'udito controllaterale e appunto le aspettative del paziente ed infine per ultimo ma comunque è sempre importante tenerlo a mente le comorbidità del paziente perché un intervento di questo tipo è comunque un intervento che prevede un'anestesia generale e comunque ha delle complicanze potenziali che devono essere messe sul piatto della bilancia per decidere cosa fare quindi concludendo è un gran casino decidere se questi pazienti devono rifare o non rifare una ricostruzione della catena durante i controlli post-operatori può essere una cosa estremamente complicata e che nei casi in cui venga preso in considerazione da chirurghi colleghi poco esperti tipo ad esempio il sottoscritto va discussa con colleghi appunto più esperti per capire cosa è meglio fare in ogni singolo paziente le altre red flag da prendere in considerazione al controllo post-operatorio dei pazienti sottoposti a chirurgia del colestatoma sono otorrea cronica e la presenza di tasche di retrazione epidermizzate o non esplorabili non autodrenanti anche qui vale la pena andarci a rimettere mano o no? in questo caso ci aiuta molto la radiologia tipicamente la diagnostica del colestatoma si basa sulla TAC la TAC è un esame multistrato a strato sottile che permette una ottima risoluzione spaziale nel caso dei colestatomi della parsplacida quello che ci troviamo ad affrontare sono spesso colestatomi laterali alla catena che provocano un'erosione dello scutum come vedete in questa immagine e provocano una medializzazione della catena in alcuni casi l'estensione del colestatoma può essere particolarmente importante pertanto dalla porzione atticale epitimpanica posteriore si può avere un'estensione verso il mesotimpano verso il tagment timpani o verso la cellularità mastoidea in questi casi molta attenzione va apposta a quelle che sono le potenziali complicanze del colestatoma quali l'erosione del tagment timpani o mastoideum con eventuale erniazione durale o appunto meningoencefalica le fistole del canale semicircolare laterali bisogna cercare di prendere in considerazione anche il facciale per vedere se è coperto da osso o meno e appunto valutare lo stato della catena ossiculare che qui è ampiamente erosa questa è una piccola flowchart che ho buttato giù più che altro per chi ha meno esperienza nel valutare la radiologia di questi pazienti colestatomi della pars placida colestatomi che sono a partenza dalla zona del prussac erodono lo scutum la catena ossiculare medializzano la catena e bisogna fare attenzione alle complicanze quando invece ci troviamo a confrontarci con colestatomi della pars tensa è più frequente l'interessamento dei quadranti retro e ipotimpanici della cavità timpanica qui vedete un colestatoma che interessa la regione del seno timpanico un seno timpanico non particolarmente profondo e la regione del seno facciale con un'estensione verso l'aditus ad antrum anche in questo caso la catena ossiculare in particolare a livello dell'articolazione in cudo malleolare scusate è erosa tutte queste sono cose da prendere in considerazione per dare indicazione a pazienti con un quadro post intervento ad un tipo di intervento piuttosto che un altro fatto questo piccolo cappello introduttivo sulla TAC in realtà il vero protagonista ad oggi del follow up del colestatoma è la risonanza magnetica risonanza magnetica come? io inizialmente quando vedevo pazienti in ambulatorio chiedevo la risonanza magnetica delle rocche petrose mi stupivo di come ogni tanto a controllo arrivassero referti non conclusivi e riguardando le immagini anche con colleghi esperti di me non vi fossero le sequenze dedicate al follow up del colestatoma la risonanza è un esame multiparametrico che tipicamente viene utilizzato per valutare le complicanze intracraniche e dell'orecchio interno dei colestatomi ma in realtà se vengono utilizzate delle sequenze specifiche può essere molto utile nel follow up del colestatoma infatti quando valutiamo le opacizzazioni TAC con tecniche convenzionali di risonanza magnetica quali ad esempio la T1 la T2 la FLER non siamo in grado di avere alcun tipo di distinzione tra quella che è la flogosi e quello che è il colestatoma questo tipo di distinzione è permessa dalle tecniche in diffusione questa è una piccola tabella per riassumere com'è l'aspetto del colestatoma in risonanza magnetica il colestatoma è tipicamente ipointenso in T1 iperintenso in T2 il contrasto nella maggior parte dei casi non viene preso salvo in alcuni casi perifericamente al colestatoma questo perché perché perifericamente al colestatoma di solito c'è una reazione logistica della perimatrice appunto colestatomatosa che determina una presa di contrasto la DVI e la mappa di ADC sono le due porzioni più importanti dell'esame in risonanza la valutazione e la conoscenza di tutte queste sequenze permette di fare diagnosi differenziale tra un colestatoma e tessuto cicatrizziale tra un colestatoma e un'erniazione durale e tra un colestatoma e tessuto di granulazione il problema qual è? che ogni qualvolta andiamo a chiedere il mezzo di contrasto per far sì che il mezzo di contrasto arrivi in quota sufficiente al tessuto fibrotico al tessuto di granulazione della cavità timpanica e mastoidea è necessario fare esami di lunga durata tipicamente 40 minuti ci vogliono soltanto per il mezzo di contrasto per arrivare nelle sedi dedicate questo è un grosso problema perché come tutti voi sapete la disponibilità della risonanza magnetica non è così estesa come per la TAC quindi la grossa diciamo il grosso avanzamento a livello tecnologico è stato dato dallo sviluppo di tecniche non ecoplaner quindi non API qui vedete alcuni nomi che sono poi in realtà nomi che dipendono dalle macchine con cui vengono fatti questi esami AST blade propeller e così via questi esami sono molto utili perché permettono di ridurre notevolmente la dimensione dei tagli fino ad arrivare a tagli di 2 mm circa aumenta notevolmente la sensibilità e aumenta notevolmente la sensibilità perché diminuiscono notevolmente gli artefatti da interfaccia col parentima cerebrale in particolare questo è molto utile per valutare quelle che possono essere residui o recidive in corrispondenza dell'epitimpano al confine con la fossa cranica media se normalmente si ha un grande tasso di falsi negativi quando vengono fatti quando sono presenti lesioni minori di 5 mm e questo è vero per le sequenze EPI con le sequenze non EPI il cutoff di detezione del colestiatoma è stato ridotto fino a 2-3 mm a seconda della macchina che viene utilizzata questo è uno studio in cui vengono confrontate sensibilità specificità valore predittivo positivo e negativo delle diverse tecniche di follow up in particolare a me interessava molto il confronto tra le tecniche non EPI con le tecniche combinate non EPI più contrasto notate quanto la sensibilità e la specificità in realtà non si discostino molto dalle tecniche in cui viene utilizzato anche il mezzo di contrasto a fronte di un esame estremamente più lungo per farvi capire fare un esame in DVI non EPI specifico per il colestiatoma richiede 4 minuti di esame contro un'ora e passa per fare tutte le altre sequenze compresa quella con contrasto quindi alcuni autori stanno iniziando a prendere in considerazione l'esecuzione della DVI non ecoplanar senza il contrasto qui vedete alcune immagini come vi sia una restrizione tra B0 e B800 ma la risoluzione spaziale della localizzazione di colestiatoma è molto più definita quando utilizziamo delle sequenze non ecoplanari questo è un altro caso bilateralmente il paziente ha un seno timpanico un rettortimpano forse questo è il seno subtimpanico particolarmente profondo ma slargato dal lato di sinistra facendo la diffusione siamo in grado di rilevare e di caratterizzare questa opacizzazione del rettortimpano ancora questa potrebbe sembrare un'erniazione meningoencefalica in un paziente che ha già fatto un intervento di colestiatoma vedete come la risonanza permetta di circoscrivere meglio la patologia colestiatomatosa ed infine qua vedete l'applicazione delle varie tecniche dove appunto la risonanza permette di distinguere il colestiatoma dalla flogosi circostante flogosi circostante che in T2 è iperintensa e assomiglia molto come segnale a quella del colestiatoma che invece in DVI si distingue in maniera molto marcata quindi niente ripadisco alcuni colleghi propongono di fare un protocollo di risonanza fast di 4 minuti per valutare soltanto le sequenze non API qui vado avanti perché comunque i vantaggi e svantaggi dell'attacca e della risonanza ve li ho elencati questi sono dei valori di sensibilità specificità per le tecniche API e se li confrontiamo con le percentuali dette prima sono lievemente inferiori e questa è una recente revisione sistematica con meta-analisi di un numero cosquipo di lavori dove vediamo come in realtà il problema della diffusione non ecoplanare non sia tanto il valore predittivo positivo nel senso che se abbiamo una lampadina che si accende possiamo essere relativamente sicuri di avere un residuo una recidiva di colestiatoma è il valore predittivo negativo perché quando l'esame è negativo in realtà potremmo avere a che fare con dei falsi negativi il dottor Fernandez prima vi ha fatto un esempio che è quello delle tasche di retrazione epidermizzate la risonanza in tutte quelle situazioni dove non c'è un'interfaccia aria-osso sufficiente può dare degli esiti falsamente negativi quindi questo deve essere preso in considerazione questo è uno studio retrospettivo questo è uno studio retrospettivo dove vengono valutati 45 casi dove si vede come in realtà fare un follow-up con risonanze in DVI seriate permetta di aumentare la detezione di residui quindi sarebbe raccomandabile non tanto farla one shot a distanza di tutto tempo dall'intervento ma farla ripetuta perlomeno a distanza di due anni di un anno tra la prima e la seconda e questo è uno studio che dimostra quanto l'esame sia efficace anche nel follow-up dei bambini cosa molto importante in quanto come discusso anche poco fa i bambini diciamo che ci mettono davanti a delle considerazioni di tipo diverso nei bambini non possiamo fare delle TAC seriate per il rischio anche di danno appunto da radiazioni pertanto la risonanza sembra essere un tool molto molto efficace la petrosectomia subtotale tutti quegli interventi che prevedono un'obliterazione come la petrosectomia subtotale non permettono alcun tipo di valutazione a livello clinico in questi la risonanza è molto importante la petrosectomia viene considerata da molti un intervento definitivo perché viene fatto in pazienti che hanno delle situazioni di otorrea cronica molto complesse e si pensa che il tasso di residuo di colestetoma in questo tipo di pazienti sia estremamente ridotto in questo studio è dimostrato come un follow up con risonanze in DVI seriate possa rilevare un tasso comunque abbastanza cospicuo di colestetoma residuo in pazienti che sono sempre asintomatici quindi lì si pone il dubbio cosa faccio ho un piccolo residuo di colestetoma lo continuo a seguire con la risonanza oppure gli faccio una revisione tolgo l'obliterazione e tratto la ripresa di malattia anche questo si presterà a discussione quindi da questo studio si conclude che anche in interventi diciamo più demolitivi e definitivi come può essere ad esempio la petrosectomia sul totale è indicato fare un follow up a lungo termine quindi quando fare l'imaging a follow up sicuramente per seguire le petrosectomie sul totale o le canal wall down obliterative sicuramente in caso di sospetto di residuo o colestetoma recidivo questo soprattutto quando abbiamo dei dubbi e soprattutto quando abbiamo in programma una chirurgia di revisione perché in quel caso è importante avere una caratterizzazione dell'anatomia residua del paziente alcuni colleghi fanno un attacco baseline a sei mesi per avere un set point da confrontare ai follow up residui quale imaging fare l'attack miglior risoluzione spaziale landmark ossei e controllo ad esempio della posizione dell'ossiculoplastica la risonanza invece per discriminare tra colestetoma e di infiammazione e fare un counseling più mirato al paziente per decidere la tipologia di intervento da fare concludo la relazione mostrandovi rapidamente alcuni sviluppi tecnologici che i nostri colleghi in Giappone hanno portato avanti negli ultimi anni si tratta di un imaging in fusione in cui sostanzialmente viene fusa l'immagine della risonanza non EPI con prima una T2 pesata ed in seguito con la TAC quindi color map fusion imaging più TAC permette di visualizzare in termini anche anatomici la presenza di malattia delineandone in maniera più chiara i rapporti con le strutture osse circostanti questo ci può aiutare moltissimo a definire l'estensione della malattia nel paziente e a effettuare una revisione qui vedete i tassi di valore predittivo positivo e negativo nelle varie localizzazioni di malattia che tendono al 100% in quasi tutte le localizzazioni che quindi dimostrano quanto questa tecnica sia efficace mi fermo qui penso che abbiamo discusso abbastanza argomenti se avete delle domande siamo disponibili allora io volevo fare un commento prima di diciamo di aprire domande prima di aprire domande da parte del pubblico se volete volevo chiedere ai pannellisti anche qual è il loro atteggiamento nel follow up di colestratomi volevo partire dal dottor Panetti che cosa ne pensa e che tipo di follow up fa se ci sono differenze rispetto a quello che abbiamo detto noi ringrazio per la domanda poi generalmente nella descrizione del primo intervento abbiamo più o meno uno schema che è sempre quello cioè dove segnaliamo eventuali zone rischio in questo caso facciamo per quanto riguarda i controlli clinici più o meno uno tre sei mesi più o meno rispettiamo questa cadenza temporale facciamo una risonanza a diffusione dopo almeno sei mesi dall'intervento anche perché usando spesso la cartilagine per ricostruire il timpano quindi non si ha la possibilità sempre di vedere per trasparenza eventuali perle e quando soprattutto è interessata la regione della staffa facciamo un second look in anestesia locale noi siamo molto in anestesia locale e come anche il dottor Bonali ha prima sottolineato diciamo ricostruiamo sempre nel second look soprattutto quando c'è una mucosa patologica nel primo tempo questo è il nostro atteggiamento intanto vorrei complimentarmi per tutte le relazioni che sono state veramente molto belle ed esaucivo come nello stile sempre della scuola di Modena che insomma si distingue sempre per la precisione e soprattutto per la sostanza che è sempre molto evidente grazie grazie mille Davide io anche io volevo fare un commento ovviamente la scuola di Verona è allineata con la scuola di Modena chiaramente per cui molti concetti sono assolutamente similari questo vale anche per il discorso del follow up follow up che ovviamente si inserisce anche in un contesto di ricostruzione e quindi second look un primo concetto che vorrei sottolineare perché a volte in passato si è creato un po' un misunderstanding su questo anche nei pazienti che fanno chirurgia endoscopica esclusiva c'è indicazione comunque a effettuare un second look soprattutto quando c'è una matrice diffusamente epidermizzata in tutta la cassa per cui non è che se uno viene operato in endoscopia allora non fa il second look quindi questo è un primo concetto quindi anche i pazienti che vengono sottoposti a chirurgia endoscopica esclusiva se ci sono ovviamente delle condizioni intraoperatorie che lo richiedano possono e devono essere sottoposti a un secondo tempo che potrà essere un semplice secondo tempo appunto di check di controllo della patologia oppure un secondo tempo in cui si può effettuare la ricostruzione nello stesso contesto quindi questo è un primo concetto che volevo dare per quanto riguarda i pazienti pediatrici la problematica è duplice perché se da un lato tendenzialmente si cerca di effettuare una ricostruzione contestuale nel primo tempo proprio per le problematiche uditive che si vanno a inserire in un contesto anche scolastico e quindi si cerca se è possibile di ripristinare l'udito nello stesso tempo in cui si fa la rimozione del colestiatoma è altrettanto imperativo però proseguire il follow up perché nel bambino il colestiatoma può avere delle caratteristiche un po' più aggressive e ci sono alcune aree che si esplorano bene in endoscopia che quindi vale la pena di andare a rivalutare è chiaro che si può effettuare un second look chirurgico oppure si può fare una risonanza magnetica in diffusione ricordiamoci che per alcuni bambini la risonanza necessita la sedazione e quindi probabilmente a volte se c'è un dubbio forse conviene traghettarli direttamente un secondo tempo chirurgico piuttosto che andare a fare una risonanza che comunque richiede una sedazione e che magari a volte può non darci tutte le informazioni che cercavamo un ultimo concetto poi concludo sulla petrosectomia noi di petrosectomia ne facciamo abbastanza pur essendo comunque di scuola di endoscopia vediamo quotidianamente dei fallimenti di chirurgie più tradizionali legati ovviamente non solo a problematiche chirurgiche ma evidentemente anche a problematiche del paziente e della patologia in sé e in alcuni casi ovviamente è indicato fare una petrosectomia sul totale è chiaro che la petrosectomia è un intervento che va fatto in un certo modo per cui bisogna abbattere tutta la cellularità del temporale senza trascurare alcune aree altrimenti ovviamente è possibile avere quelle problematiche che si evidenziano poi in risonanza quando si va a valutare il paziente a distanza di tempo è chiaro che la risonanza è mandatoria in questi pazienti ed è l'unico modo che abbiamo per capire che cosa sta succedendo all'interno della nostra cavità chirurgica fermo restando che la tecnica deve essere eseguita in maniera ottimale e l'altra problematica è la problematica uditiva nei pazienti sottoposti a petrosectomia e anche lì il follow up ma poi andremo partiremo un po' per la tangente nel senso che a volte è possibile effettuare un intervento in cui si va a posizionare contestualmente una protesi per via ossea che però potrebbe dare dei problemi poi di compatibilità con la risonanza in questi pazienti quindi anche lì valutare sempre se fare una petrosectomia se associarla a qualcosa anche per quanto riguarda il recupero uditivo e questo ovviamente si va a inserire all'interno del discorso del follow up radiologico grazie grazie Davide volevo giusto anche da Salvatore e da Daniele se avete qualcosa da aggiungere io sono in una fase di cambiamento della mia vita perché da poco ho lasciato la sanità privata convenzionata per entrare in ambiente ospedaliero rigorosamente per adulti perché la struttura dove lavoro non ha componente pediatrica quindi la mia esperienza sui bambini probabilmente se continuo in questa via si fermerà qui però fondamentalmente il follow up è quello che è già stato abbondantemente detto io tendo a utilizzare abbondantemente la componente endoscopica ovviamente durante la fase ambulatoriale la TAC non prima dei tre mesi la risonanza magnetica non prima dei sei mesi per diciamo le questioni già abbondantemente affrontate e per il resto insomma la linea è quella non ci sono situazioni particolari vedrò un attimo se questa finezza fra virgolette che io seguivo pazienti che erano direttamente di mia produzione potrò mantenerla anche in un ambiente ospedaliero un po' più rustico fra virgolette che il Cardarelli di Napoli dove la situazione è un po' più un po' diversa sì anche noi siamo molto allineati su quello che avete detto con le rispettive differenze tra popolazione pediatrica e popolazione adulta senza trosse sorprese con quello che è stato fino a detto l'unica cosa che magari tengo a sottolineare è che teniamo il follow up prima di diciamo interrompere il follow up con il paziente di almeno cinque anni questo perché comunque sia si vedono anche recidive tardive che magari anche i pazienti che sono stati seguiti con radiologia che è risultata chiara al primo al primo anno al terzo anno a volte c'è una ripresa di malattia ad anno numero cinque anni prima di interrompere il follow up follow up lungo sì non ho precisato questo è fondamentale nel collezione ovviamente posso aggiungere una cosa Marco 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 ah scusami dimmi pure beh insomma sicuramente nel colestiatoma soprattutto per la ricorrenza della malattia io credo che il follow up non finisca mai cioè almeno una volta all'anno queste erano parole del professore Zini un colestiatoma deve essere seguito per tutta la vita almeno un controllo all'anno effettivamente sicuramente si sono viste le cirie anche a vent'anni così come anche i danesi recentemente in una sua relazione con l'introduzione dell'MRI a diffusione ha evidenziato però sicuramente credo che sia in un ambulatorio di otologia sia utile consigliare al paziente almeno una volta all'anno soprattutto nelle tecniche di farsi ricontrollare se non altro per rimuovere le cirie Marco scusa mi posso? certo io benvenuto e volevo ringraziarti perché è stata un'esperienza bellissima da non esperto del settore quindi sto facendo il più discente che non il moderatore ho una domanda per l'ultimo relatore cioè se la richiesta della sequenza non E.P.A. deve essere specificata ai radiologi perché spesso magari i radiologi vanno guidati quantomeno informare il radiologo per quale è il motivo per il quale fa l'esame e poi la seconda invece una richiesta vedo che state registrante quindi magari il link della registrazione potremmo offrirla al gruppo Campano RL che io rappresento come vicepresidente perché qualcuno non ha partecipato perché il pomeriggio alcuni colleghi sono in servizio al lavoro ma penso che sia una cosa tanto bella interessante quindi mi complimento con voi per la vostra scuola avete un grande maestro quindi che vi forgia sin dall'inizio poi vedere l'entusiasmo dei giovani per me è una cosa che è unica è un piacere unico quindi magari rendere disponibile la registrazione di questo webinar per gli amici che hanno potuto partecipare grazie a tutti ancora allora questo è molto volentieri per quanto riguarda la registrazione vi invieremo il link e adesso lascio un attimo la parola a Matteo così puoi rispondere a questa domanda e fare le ultime considerazioni allora per rispondere alla sua domanda per quanto riguarda la risonanza magnetica allora la prima premessa da fare è che non tutti i radiologi sono così complianti a farsi consigliare dal chirurgo le sequenze che devono fare questa è la prima cosa che mi sento di dire perché capita spesso che noi facciamo richieste per esami specificando al paziente di portare al radiologo i precedenti di portare il nostro ultimo referto con gli esiti diagnostici per il radiologo e con la specifica delle sequenze che ci servirebbero laddove possibile e capita altrettanto spesso di vedere degli esami dove ci sono magari tutte le sequenze possibili immaginate magari il collega fa un esame che non ha più ore e mezza ma non ci sono le sequenze indifferente più recentemente questo tipo di situazione si sta verificando sempre meno perché secondo me c'è più sensibilità da parte dei colleghi nel affrontare da un punto di vista radiologico questa malattia in modo corretto però sicuramente noi ogni volta che abbiamo bisogno di un esame radiologico in risonanza ovviamente chiediamo i colleghi le risonanze in diffusione non ecoplanari e specificiamo loro quelle che sono le aree anatomiche dove noi abbiamo più rispetto clinico non so se ho risposto adeguatamente perfetto era dove ti volevo portare così spesso c'è questo problema con le radiologi sappiamo quando sia importante magari instaurare un rapporto con un radiologo di fiducia magari nel proprio ospedale individuare quello che si interessa come avviene anche per la chirurgia endoscopica del naso perché sennò a volte poi non si parlano la stessa lingua bene complimenti ancora bellissima relazione bravo assolutamente d'accordo al 100% infatti quello che talvolta mi capita anche un po' per cercare di fare un po' di esperienza di magari tenere i file degli esami dei pazienti che magari vengono da fuori e discuterli con i neuroradiologi di riferimento che poi possono anche degli elementi di riflessione per crescere insomma così Rick se non devi mai mancare devi avere un archivio tuo per anche gestirti le immagini devi avere il tuo archivio è importante grazie scusate volevo aggiungere volevo aggiungere solo una cosa in quanto riguarda la risonanza l'esperienza del radiologo è fondamentale perché ci sono tante situazioni in cui è difficile interpretare le immagini che vediamo e non solo per i falsi negativi che dicevamo prima che possono sfuggire ma anche quelle situazioni in cui sembra esserci la presenza del colesteatoma in questi casi l'esperienza del radiologo è importante per farci capire se è una positività reale quella che ci potrebbe essere oppure diciamo se può essere qualche artefatto e quindi purtroppo ci vuole anche un centro con un'esperienza capita spesso di avere dei referti di positività di sospetta positività di restrizione in cui non è per nulla chiaro lo facciamo rivedere ai nostri radiologi e in realtà non è una situazione così chiara poi l'altra cosa che volevo aggiungere per quanto riguarda le tecniche obliterative nel follow up nell'obliterazione con Bonalive le scuole che fanno questo tipo di obliterazione in maniera sistematica utilizzando il Bonalive utilizzano l'attack del follow up il Bonalive lascia un'immagine all'attack di vetro smerigliato e il colesteatoma invece dà un'immagine diciamo simile a quella dei tessuti molli e si distingue molto bene nel Bonalive quindi se nell'obliterazione cresce colesteatoma è abbastanza semplice vederlo semplicemente con un attack quindi questa è una piccola puntualizzazione che volevo aggiungere grazie grazie a te allora giusto per concludere questa prima parte adesso facciamo una decina di minuti un quarto d'ora di pausa vi prego di non cedere alla tentazione di andare a fare una passeggiata e spero di ritrovarmi tutti per la parte dei casi clinici che è la parte interattiva che secondo me forse è anche quella più interessante quindi dieci minuti un quarto d'ora e poi ci ritroviamo sulla piattaforma per continuare io direi 5,25 5,30 può andar bene? perfetto perfetto dottor dottor all'ora Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e... Grazie a tutti. 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 per essere stati con noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao Domenico.